Noi sappiamo che l'agricoltura sociale ha questa particolarità, muove sostanzialmente le stesse risorse, quelle che sono in alto di questa slide, le piante, gli animali, le persone, gli spazi dell'agricoltura. Però a seconda dei sistemi di welfare che vengono attuati e portati in applicazione nelle diverse aree europee, noi assistiamo a pratiche che hanno contenuti molto differenti. E quindi sappiamo benissimo che le pratiche olandesi sono diverse da quelle, o comunque quelle nord-europee che sono diverse dalle nostre, da quelle dell'area dell'Europa centrale o dei paesi anglosassoni. E questo, come dire, è l'elemento di setaccio che il welfare pratica rispetto all'attivazione delle risorse. Questo nonostante che tutti i sistemi di welfare di fatto assistono a tensioni analoghe, che sono da una parte relative all'evolversi dei bisogni sociali, della struttura sociale, della popolazione europea, l'invecchiamento, le migrazioni, ma anche, come dire, nuove attenzioni, nuove sensibilità rispetto alle persone a più bassa contrattualità. Quindi da una parte abbiamo sistemi differenti, dall'altra abbiamo tensioni convergenti, e quindi, come dire, quelli che saranno anche i sistemi di welfare che il modo in cui l'agricoltura sociale troverà applicazione in diversi sistemi di welfare è un tema fortemente evolutivo. È chiaro che da questo punto di vista noi sappiamo che le pratiche sono molteplici, dalla coterapia, all'educazione, all'inclusione sociale, ai temi della giustizia, alla creazione di opportunità o di nuovi servizi o di capitale sociale, e quando ci andiamo a confrontare, in termini valutativi, con questi esiti, chiaramente la complessità tende ad esploderci tra le mani. Quello che abbiamo nella situazione attuale nei sistemi di welfare e di agricoltura sociale in Italia, ho provato a rassumerlo in questo schema in cui sui quattro assi ci sono diversi parametri, quindi la rilevanza economica del processo agricolo, delle pratiche coinvolte, più bassa o più alta, il sistema di pagamenti o di riconoscimenti utilizzati, più bassi o più alte, come nel caso dei sistemi nord-europei, la specializzazione dei sistemi e delle pratiche di agricoltura sociale verso un'attitudine più basata sulla volontarietà, e anche questo dal più basso al più alto, e il passaggio da strutture più informali a più altre, più formali, ambienti più formali, in cui le pratiche tendono a prendere spazio. E se riflettiamo sulle diverse pratiche europee, troviamo il sistema nord-europeo, dove appunto le pratiche sono molto formalizzate, spesso riconosciute con pagamenti, c'è una specializzazione sociosanitaria e ambienti tendenzialmente più formalizzati, e questo è un tipo di agricoltura sociale specializzato, legato alla diversificazione molto spesso delle attività agricole. Se mi sposto verso il sistema anglosassone o del workfare tedesco, io trovo molto spesso agricoltura sociale su progetto, o finanziati da fondazioni, o da politiche, ad esempio del Fondo Sociale Europeo. Se mi sposto sul sistema mediterraneo, e per certi versi anche quello dell'est europeo in riaggregazione, trovo pratiche che sono molto più intrise sulla volontarietà, sull'informalità, sull'assenza di pagamenti e sulla rilevanza quindi dei processi agricoli. È chiaro che parlare di queste pratiche in termini valutativi significa squadernare mondi completamente differenti e capire appunto lo strumento valutativo quale gioco tende a supportare, anche nei processi di cambiamento. In alcuni casi può rafforzare alcune logiche di welfare tradizionale, altre volte magari militare a favore dei processi di innovazione. Io, come dire, nel grafico accanto la riflessione che offro all'attenzione di chi si occupa di questo tema è che probabilmente noi abbiamo bisogno di tutte le diverse pratiche di agricoltura sociale, comprendere nella differenza, capire qual è il loro spazio di azione e anche metterlo in relazione con le politiche in maniera corretta. Quindi è chiaro che se io ho delle pratiche che sono più prettamente sociosanitarie, le politiche di intervento non possono che essere sociosanitarie. così se nelle pratiche che sono più legate alla logica dell'inclusione sociale e lavorativa, di nuovo sono le politiche sociali, le politiche di grazia e giustizia, o se vado nei sistemi che sono più produttivi, le politiche di sviluppo rurale. Allora riuscire a generare una continuità nel campo della distinzione tra le diverse pratiche forse ci consente o ci consentirebbe di creare anche una sorta di piccola filiera di accompagnamento delle persone da sistemi che sono a più forte tutela a processi, a percorsi che sono più attenti ai temi della giustizia sociale e dell'inclusione attiva delle persone con svantaggi nella società. Detto questo, è chiaro che, come dire, ragionare in termini di valutazione significa, come specificavo prima, da una parte interrogarci su quale sistema di welfare stiamo accompagnando e se appunto ci interessa misurare l'efficacia classica di una pratica per un'azione terapeutica o co-terapeutica e quindi concentrare l'attenzione prevalentemente sugli utenti oppure se stiamo ragionando in termini di evoluzione dei sistemi di welfare ma più in generale della creazione di valori economici e sociali nella società è chiaro che il ragionamento prende altre forme ed altre pieghe. Il ruolo della valutazione è quello classico, da una parte è quello di rendere conto soprattutto su progetti finanziati, ma anche rendere conto, come dire, ai nostri interlocutori, apprendere perché con la valutazione si generano apprendimenti e questo è particolarmente vero in alcune pratiche di agricoltura sociale ma anche comunicare all'esterno, evidente che un maggior interessamento delle politiche delle diverse politiche sul tema di agricoltura sociale trova l'infa vitale dall'emergere di esiti facilmente trasferibile quindi il tema della comunicazione degli esiti e anche quello di consolidare, consolidare anche le conoscenze oltre che le pratiche sapendo benissimo che soprattutto in alcuni contesti le pratiche di agricoltura sociale sono microattoriali e hanno necessità di creare una conoscenza nuova che spesso non esiste in maniera codificata e che viceversa i processi valutativi possono consentire di assicurare. Ci si confronta chiaramente a seconda degli scenari che esaminiamo con complessità diversa anche di valutazione degli impatti e nel caso delle pratiche di agricoltura sociale appunto il riferimento ai presupposti, ai modi in cui le pratiche trovano spazio e verso cui tendono quali sono i principi regolatori dei funzionamenti delle pratiche e dei possibili esiti e quindi anche la possibilità, come prima dicevo, di ragionare in termini di uso degli strumenti di valutazione per facilitare gli stessi percorsi di innovazione e questo ovviamente cambia anche l'attitudine e il ruolo dei valutatori come cercherò di evidenziare fra breve però per intenderci è chiaro che in un sistema di welfare dell'agricoltura sociale per come mobilizzata nei sistemi nord europei i portatori di pratica vengono in qualche modo riconosciuti all'interno del sistema sociosanitario offrono dei servizi, si rivolgono a dei clienti e il tema della qualità del servizio o dell'efficacia nei confronti dell'utilizzatore è prevenente nei sistemi italiani questo non agisce nella stessa maniera è chiaro che l'attenzione, come anche in alcune delle relazioni che verranno presentate oggi è sugli esiti più complessi e molteplici che le pratiche di agricoltura sociale possono generare e quindi, come dire, se ragioniamo in termini di un modello di welfare classico a sinistra del vostro schermo lo stato e il mercato, quindi il binomio classico chi produce economicamente, la passazione, il welfare pubblico l'agricoltura sociale diventa una pratica di servizio che viene valutata attraverso gli esiti che genera sui partecipanti nel caso di pratiche che conosciamo forse meglio nel nostro paese l'agricoltura sociale diventa anche una forma di economia civile un'economia per progetto richiede un ingaggio diverso da parte della comunità gli esiti sono molteplici e tende a generare modifiche organizzative di innovazione, di valori procedurali e anche attitudinali di diversi soggetti coinvolti quindi il gioco è assolutamente differente in agricoltura sociale ci sono alcune specificità e alcune complessità in primo luogo sappiamo che parliamo di servizi assai differenti anche oggi nelle relazioni si parte dagli anziani e si va verso l'inclusione sociolavorativa i migranti quindi è chiaro che valutare cosa diventa non tanto valutare l'agricoltura sociale in quanto tale ma valutare gli esiti che le diverse tipologie di pratiche di agricoltura sociale possono generare e questo chiaramente apre tantissimi capitoli e anche la difficoltà di cumulare una serie di informazioni utili a corroborare, sostanziare gli esiti delle valutazioni peraltro, come dire, le pratiche prendono spunto in esiti differenti spesso discontinui nel tempo e anche nel momento in cui si accolgono dati che si mettono a confronto spesso all'interno della stessa pratica sorgono difficoltà metodologiche non irrilevanti le pratiche sono numerose, disperse e differenti nella loro impostazione, nella loro realizzazione quindi riuscire ad avere informazioni statisticamente valutabili diventa complesso oltre, appunto, a seconda del cosa vogliamo valutare gli esiti multidimensionali che da una parte sia delle politiche che vengono investite sia della tipologia di esito da valutare da qui, come dire, approcci di tipo più qualitativo quantitativo negli esercizi valutativi e poi sicuramente lì dove l'agricoltura sociale si lega a percorsi di innovazione è chiaro che anche le metodologie di valutazione diventano ben differenti in particolare in agricoltura sociale sappiamo che oltre ai portatori di progetto agricoltori o cooperative sociali abbiamo partecipanti, gli operatori dei servizi o del mondo del terzo settore le famiglie, gli stessi cittadini consumatori oltre che le istituzioni pubbliche e ricercatori e molto spesso nelle pratiche che osserviamo sul campo c'è un vero e proprio processo di ingaggio di più soggetti nella costruzione di caperi condivisi rispetto alle pratiche di agricoltura sociale e che riguardano appunto non solo l'essito di cura ora lo dico così o di inclusione ma anche i riflessi che quella pratica innovativa può generare sul modo stesso di impostare servizi o di condividere e creare valori e reti di protezione all'interno di un welfare che è più sopportato dalla comunità è chiaro che di nuovo rispetto ai diversi campi della valutazione il welfare tradizionale e la valutazione per il welfare tradizionale si appunta soprattutto sui fruttori mentre se rifletto in termini di innovazione di welfare gli esiti delle attività di valutazione dovrebbero puntarsi e centrarsi in maniera multidimensionale su più soggetti e più aspetti dei possibili outcomes prodotti dalle pratiche di agricoltura sociale il rischio è quello come dire di mescolare le carte cioè da una parte magari penso e assisto a un possibile cambio di paradigma nei sistemi di welfare dall'altra il ruolo delle pratiche sul campo rischia di essere oscurato nel momento in cui applico su pratiche innovative dei sistemi tradizionali di valutazione di impatto perché questo tende a corroborare il vecchio paradigma quindi è chiaro che la valutazione genera apprendimenti e questi apprendimenti per come vengono disegnati hanno un impatto poi sui percorsi di evoluzione in direzione di rallentamento o di facilitazione quindi come dire delle pratiche di valutazione molto medicalizzate sugli utenti che mettono in evidenza quel solo aspetto tendono a portare la riflessione in una sanitarizzazione delle pratiche di agricoltura sociale piuttosto che di welfare di comunità tanto per fare un esempio quindi di questo dobbiamo essere consapevoli nel momento in cui impostiamo disegni valutativi ed è chiaro che questo la riflessione precedente si lega a questa successiva del modo in cui le pratiche di valutazione vengono impostate nel senso gli attori che sono sul territorio diventano come dire gli interlocutori a cui presentare esiti fatti dai centri di ricerca soggetti che coinvolgo per assumere informazioni per una metodologia che poi verrà applicata e restituita oppure sono pratiche che sono molto embedded nei territori e che sono il frutto di processi di partecipazione attiva perché ovviamente a seconda che i ricercatori si pongano in una logica dell'uno o dell'altro tipo le stesse metodologie gli stessi esiti di valutazione sono differenti in particolare se vado su logiche di partecipazione all'identificazione degli attori il codisegno anche del progetto di valutazione degli esiti diventa un elemento essenziale dell'apprendimento e va sotto la categorizzazione di quello che è il metodo 2 della ricerca quella della ricerca partecipante militante della ricercazione nella organizzazione degli strumenti valutativi noi tutti ci siamo confrontati da una parte con la scelta delle dimensioni da valutare ma anche con quella degli elementi all'interno anche delle stesse categorie dei soggetti da prendere in considerazione della definizione degli indicatori e degli scrittori di ciascuno degli elementi delle dimensioni che andiamo a curare e poi il processo di ranking e di scoring prima di valutazione degli esiti che poi possono avere un'influenza appunto sul ridisegno sia delle pratiche sia sulla conoscenza delle politiche che le politiche possono avere di conseguenza anche l'intervento e l'investimento che le politiche vogliono e possono fare a sostegno dei processi di cambiamento nel welfare quindi questo spesso è un esercizio che assorbe tantissimo tempo soprattutto se lo si desidera o se si prevede dal punto di vista metodologico realizzarlo in contesti partecipativi è chiaro che la discussione sulle dimensioni degli elementi dei scrittori i ranking e gli scoring diventa una discussione articolata ricca ma dotata di una certa complessità allora e vado alla conclusione l'esercizio di valutazione in agricoltura sociale da una parte ha degli elementi di difficoltà che ricordavo nella diversità nel problema di realizzare le comparazioni e cumulare informazioni anche come dire nel rispetto delle privacy dei soggetti vulnerabili che sono coinvolti da questo punto di vista c'è un innalzamento delle barriere che si pongono di fronte ai ricercatori che vanno come dire affrontati nella correttezza metodologica e giuridica dall'altra ci sono degli elementi comunque di facilità la possibilità di impostare processi di circolarità anche il fatto di confrontarci con soggetti che comunque hanno una volontà di partecipare impegnarsi di organizzare di organizzare le stesse raccolte dati e anche l'apertura al confronto negli stessi ambiti negli stessi consensi di ricerca quale è quello di oggi allora oggi abbiamo di fronte a noi più relazioni ciascuna ha scelto un angolo prospettico dal quale esaminare il proprio campo di osservazione ma anche un approccio metodologico proprio che forse potremmo iscrivere in quel sentiero in quei campi di possibilità che ho cercato di disegnare sarà interessante capirne come dire sia le impostazioni metodologiche sia gli esiti a cui le singole presentazioni sono pervenuti in alcuni casi si tratta di esiti intermedi per poi come dire ragionarne approfondire la discussione nel corso di questa di questa mattinata tanto vi ringrazio per l'attenzione ringrazio Carla e Roberta per come dire per il lavoro che si sono caricati nel condurre le due sessioni di questa di questa mattinata grazie grazie Francesco per gli interessantissimi spunti e mi vorrebbe dire proprio linee da seguire nel nel dibattito che come sessione ci siamo proposte e ci siamo proprio proposti quello di attivare un dialogo un dibattito proprio sull'istrumenti e le metodologie della valutazione nell'ambito dell'agricoltura sociale proprio tenendo conto di quel contesto che tu molto bene hai delineato del sistema di welfare e dell'apporto che l'agricoltura sociale può dare nell'orientare poi il tipo di welfare o comunque quale orientamento dare al welfare e quindi in questo senso la possibilità di promuovere innovazione sociale è strettamente connessa appunto a quello che è la metodologia sia di progettazione ma anche quella di valutazione quindi il appunto codisegno complessivo insomma del progetto di agricoltura sociale e pensando alle primi tre contributi di questa sessione direi che i contenuti di questi contributi le esperienze che presentano i progetti vanno proprio nella direzione di favorire questo dibattito questa complessità di cui si parlava rispetto ai settori rispetto ai soggetti coinvolti rispetto anche alle aree interessate sicuramente fa emergere modalità diverse anche nei percorsi nei processi di valutazione e allora quello che ho pensato come proprio poche poche riflessioni pochi elementi di introduzione rispetto ai tre contributi di questa prima sessione è proprio partire da quegli elementi che Francesco Di Iacobo ci ha presentato sia in termini di criticità ma anche di di cautela su cui porre attenzione nel pensare a quale processo di valutazione abbiamo avviato e su questo pongo l'attenzione su alcune aree che ovviamente sono state toccate da tutte e tre le relazioni che però sono state sviluppate in modo diverso sono state effettuate scelte di valutazione diversa e questo sicuramente va a arricchire notevolmente quello che è la complessità della valutazione nell'ambito dell'agricoltura sociale e quali sono queste aree che riprendo in maniera più sintetica rispetto a quanto è stato già presentato da Francesco sicuramente come si costruisce quindi che tipo di costruzione è stato fatto del sistema di valutazione nel processo come è stato costruito il processo di valutazione in termini sia appunto di soggetti che partecipano in termini anche di come vengono individuati gli strumenti di valutazione e come la valutazione stessa il processo di valutazione stessa è parte integrante e ha un ruolo importante proprio in tutto l'intero processo della progettazione e realizzazione e verifica del progetto questo è proprio in quell'ottica di una ricerca di un orientamento diciamo metodologico che si avvicina molto a quello che è l'approccio partecipativo e quindi anche come apprendimento poi collettivo di tutti i soggetti che partecipano al codisegno del progetto di agricoltura sociale in questo senso vediamo allora se facciamo riferimento è solo una nota introduttiva al primo al primo contributo quello che presenterà Chiara Paffarini che è rivolto all'inserimento lavorativo in agricoltura sociale quindi la valutazione sarà diciamo affrontata su questo tema sui soggetti con vulnerabilità vediamo appunto come il processo di costruzione del disegno di valutazione è frutto di una concertazione dei diversi soggetti insomma che il progetto coinvolge e che quindi di questo poi ha portato diciamo anche alla definizione degli strumenti strumenti che vedremo nel in tutti e tre contributi sono strumenti sia qualitativi che quantitativi sono la costruzione di schede di valutazione di interviste o di altri strumenti insomma che ci consentono di valutare gli esiti l'altro l'altro contributo quello che verrà presentato da Fabio De Blasis che invece riguarda e prende rivolge l'attenzione ai pratiche di inclusione sociale di migranti richiedenti asilo e rifugiati vediamo che si costruirà un sistema di valutazione che si fonda più su un dei criteri già definiti da un'organizzazione internazionale del lavoro quindi come l'utilizzo di strumenti che possono essere utilizzati e già definiti già validati poi possono dare degli elementi di analisi e di di valutazione appunto degli esiti dell'agricoltura sociale fino ad arrivare appunto al terzo intervento presentato da Cristina Gagliardi che riguarda la valutazione degli esiti del progetto di agricoltura sociale nella regione Marche in cui l'attenzione è rivolta nello specifico alla popolazione anziana quindi un progetto di rengibilità attiva dove inserito in un contesto sanitario più forte gli strumenti sia la costruzione del processo di valutazione sia il coinvolgimento dei soggetti e sia soprattutto la costruzione degli strumenti verranno in qualche modo utilizzati o comunque individuati proprio nell'ambito sanitario quindi vedere quanto appunto degli strumenti utilizzati in questo ambito poi possono dare un contributo e possono rispondere a quelle domande iniziali che abbiamo detto di una valutazione complessiva dell'agricoltura sociale orientata e contestualizzata appunto nel sistema di UEFA bene io mi fermo qui direi che possiamo iniziare subito con il primo contributo allora buongiorno a tutti ringrazio innanzitutto il lavoro insomma che c'è stato dietro al panel Roberta e Carla ma chi ha contribuito per l'organizzazione di questa mattinata che serve a tutti per un confronto come diceva Carla di progetti sia ongoing ma anche in questo ambito che come il professor Di Giacomo ha giustamente in modo eccelso esposto insomma è un ambito che sta che sta lavorando non ci sono certezze assolute ma è molto 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 attivo grazie anche appunto ai contatti insomma che che abbiamo all'interno insomma del gruppo allora io sono stata chiamata a rappresentare un folto gruppo di donne per presentarvi questo nostro contributo un approccio interdisciplinare al tema della valutazione e dell'inserimento lavorativo in agricoltura sociale come già Carla mi ha anticipato folto gruppo di donne appartenenti a tre diversi dipartimenti dell'Università degli Studi di Perugia e poi vedremo il perché queste donne insomma si sono incontrate quindi partendo appunto da una breve introduzione vi parlerò di questa costruzione del sistema di valutazione che sta toccando tre diverse dimensioni cioè la dimensione personale collettiva ed economica per poi trarre le prime considerazioni tutto questo all'interno di un progetto appunto di cui vi accennerò la l'entità intanto riprendo anche quello che un po' insomma abbiamo un po' toccato detto ma secondo me da sottolineare il fatto che se le declinazioni del welfare erano già presenti pre pandemia nuove declinazioni e soprattutto le marginalità sociali erano già presenti pre pandemia questa non ha fatto altro che ulteriormente aggravare la situazione e banalmente ma proprio molto banalmente soprattutto perché parlo dopo il professor Di Iaco l'agricoltura sociale si offre come uno strumento terapeutico cioè sia terapeutico sia comunitario che in qualche modo è anche in grado di ricomporre dei disagi economici offrendo anche sbocchi occupazionali alle categorie svantaggiate e è questa insomma l'ambito a cui noi ci siamo rivolti sottolineo se ce ne fosse bisogno la mancanza di una visione un po' comune per e questo vale soprattutto in ambito accademico superare quella prospettiva culturale operativa eccessivamente settoriale e superarla andando verso un'impostazione ovviamente una sperimentazione di una metodologia di analisi multidisciplinare che innanzitutto vuole insomma no dovrebbe approfondire i potenziali vantaggi cioè in termini di risultati ottenibili in termini di salute sociali ma anche come una riprogettazione rurale economica dei territori quindi quello che andrò a presentare è un lavoro nato nell'ambito di un gruppo operativo agrisocial network finanziato dalla regione Umbra per il periodo di programmazione 2014-2020 con la misura 16-1-1 cioè l'innovazione focus area ovviamente più attinente all'agricoltura sociale 6A fanno parte del gruppo 41 soggetti e quindi abbiamo diciamo raccolto tutta quella che è l'agricoltura sociale Umbra con la partecipazione di cooperative sociali tipo A di tipo B associazioni di produttori ma anche associazioni cooperative ma anche diverse aziende agricole un'azienda agroalimentare tre enti di ricerca tra cui l'università di Pisa con cui abbiamo il piacere insomma di collaborare ed Eurixe l'UniPG che fa il coordinatore scientifico è rappresentato da tre dipartimenti ai quali appunto appartengono quel fotogruppo di donne che ha scritto appunto questo contributo ora all'interno del gruppo operativo ovviamente noi ci siamo concentrati come anticipato Carla sull'inserimento sociolavorativo all'interno del gruppo operativo invece lavoriamo e portiamo avanti una sperimentazione riguardo diciamo le macro aree individuate e dalla legge nazionale e dalla legge regione Umbria ci concentriamo nell'inserimento lavorativo e innanzitutto in questo ambito è stata fatta una necessaria revisione sistematica della letteratura ovviamente e anche contemporaneamente è stato attivato un percorso di concertazione per la costruzione di questo sistema di valutazione dell'inserimento sociolavorativo in agricoltura però che si basa su tre dimensioni che sono un po' insomma l'anima dei tre dipartimenti dell'UniPG che collaborano a questo progetto la dimensione personale basata sulla vulnerabilità psicologica che si focalizza sulla misurazione del cambiamento della qualità della vita secondo anche una prospettiva di riabilitazione orientata alla recovery la dimensione collettiva che invece si basa sul principio del prendersi cura e si focalizza sulle peculiarità dell'approccio antropologico rispetto particolare all'integrazione del metodo qualitativo nei processi di monitoraggio la dimensione economica che basata sulla tema della progettazione in ambito rurale si focalizza su peculiarità riconducibili all'approccio economico a gradio successivamente e conseguentemente il lavoro si è rivolto allo studio delle coordinate teorico-metodologiche dell'agricoltura sociale appunto in chiave interdisciplinare e relativamente ai risultati sociali e alla riprogettazione rurale economica rispetto appunto all'inserimento sociolavorativo in agricoltura dei diversi utenti o persone svantaggiate che dir si voglia che succede che venendo ad affrontare le diverse dimensioni di cui ci stiamo occupando io sono stata incaricata dalle colleghe quindi spero di comunicarvi nel modo migliore il lavoro spettante alla dimensione personale e alla dimensione collettiva sarò un pochino più ferrata rispetto alla dimensione economica che è la parte insomma che mi compete la dimensione personale le colleghe si sono poste innanzitutto una domanda può quindi l'agricoltura sociale favorire un miglioramento della qualità della vita nelle persone vulnerabili e facilitarne di conseguenza in questo ambito l'inserimento nel tessuto sociale allora con un approccio orientato alla recovery le colleghe intendono comprendere in che misura l'agricoltura sociale promuove sia la personal recovery cioè la percezione soggettiva del miglioramento ma anche la clinical recovery cioè l'oggettiva riduzione dei sintomi e in questo ambito i costrutti che sono stati selezionati in grado di descrivere questo famoso cambiamento della qualità della vita nelle persone coinvolte in questi processi sono stati il benessere l'autostima l'autoefficacia il funzionamento personale lo stress e la percezione del supporto sociale ora l'individuazione di questi costrutti sta avvenendo perché come vi ripeto il progetto è on going quindi non sono qui a presentarvi i risultati finali ma diciamo quello che è stato fatto finora dicevo l'individuazione dei costrutti selezionati è avvenuta sia tramite un approccio top down che ha visto un'analisi della letteratura scientifica da parte delle colleghe ma anche un approccio bottom up con interviste preliminari a soggetti già operanti nell'ambito dell'agricoltura sociale ora per avere una più ampia conoscenza della tematica le colleghe hanno adottato un metodo di ricerca che come diceva Carla è misto cioè molto spesso stiamo parlando di metodi valutati misti è quantitativo perché prevede la somministrazione di strumenti psicometrici per rilevare i costrutti ma anche qualitativo perché prevede la somministrazione di interviste semistrutturate ovviamente create ad hoc per cercare di riuscire a conoscere direttamente e in chiare narrativa le esperienze personali delle persone coinvolte in questi percorsi di inserimento lavorativo valutare l'efficacia di queste pratiche sul benessere delle persone coinvolte consente inoltre di comprendere come le variabili che hanno determinato la tale efficacia si intersecano prima durante e dopo la sperimentazione ora venendo invece la dimensione collettiva cioè affrontando la prospettiva antropologica all'interno appunto di questo progetto curato dalle colleghe del dipartimento di antropologia questa diciamo la prospettiva si è focalizzata sull'azienda sul lavoratore e sulla rete che vuol dire vuol dire che è stata costruita una scheda di monitoraggio costituita da una prima parte quantitativa cioè che comprende l'anagrafica la tipologia del disagio insomma i servizi invianti e i diversi punti di incontro sotto forma di riunioni organizzate all'interno della cooperativa dell'azienda insomma che offre questo servizio una seconda parte invece è costituita da una rilevazione qualitativa cioè la raccorda di informazioni rispetto al passaggio del lavoratore utente da soggetto passivo come ricevente di servizio a soggetto attivo le colleghe si sono anche concentrate nell'attivazione delle risorse di rete cioè lo scambio di competenze la socializzazione e l'inclusione ma anche rispetto al rafforzamento del legame sociale attraverso strategie di inclusione lavorativa tale scheda prevede una somministrazione con compilazione insieme all'educatrice o all'educatore insomma in azienda e la presenza appunto del ricercatore che rileva dati quantitativi c'è ovviamente una somministrazione contestuale dell'intervista e verrà utilizzata la parte qualitativa come temario con quali obiettivi ovviamente con una riflessione specifica su queste pratiche anche attraverso un dialogo sulla scrittura sulla valutazione appunto degli eventi ma non da ultimo con un confronto su fattori di efficacia e di criticità degli interventi i nuclei tematici affrontati tramite la scheda centrata sull'azienda vogliono in qualche modo dare e comprendono le pratiche di cura e la rete allargata che appunto l'azienda o la cooperativa insomma di cui fa parte la scrittura come lo strumento di lavoro e l'inclusione e il rafforzamento e sottolineare l'inclusione e il rafforzamento del ruolo del terzo settore in questo ambito o perlomeno nell'ambito dell'agricoltura sociale Umbra perché vi ripeto insomma al gruppo operativo fanno parte quasi la totalità delle attività sia cooperative agricole ma anche aziende agricole associazioni fondazioni di quasi la totalità dell'agricoltura sociale in Umbria ora passando alla dimensione economica che come ho detto minimamente un po' meglio vi compete da economista agraria questa è stata affrontata ma necessariamente aveva bisogno di un'indagine conoscitiva dei partner appartenenti al progetto al gruppo operativo e quindi è stato costruito anche qui con un approccio multidisciplinare perché ovviamente ha visto il coinvolgimento del comitato tecnico del gruppo operativo a cui fanno parte le varie rappresentanze e ovviamente gli enti di ricerca di Cocon quindi questo approccio che abbiamo chiamato fusione no? approccio economico agrario antropologico psicologico e della cooperazione sociale è stato costruito un questionario ad hoc multidisciplinare che è stato sottoposto con interviste via web visto il periodo a tutti i rappresentanti dei partner partecipanti ovviamente predio testaggio e riacquideva dei quesiti che andavano a indagare la dimensione tecnico economica e relazionale di queste realtà che è venuto fuori da una prima lettura ovviamente ne verranno successivamente altre nei prossimi mesi da una prima lettura dieci realtà si occupano di agricoltura sociale sono misse cioè cooperative sociali tipo A e tipo B si occupano dicevo di inserimento lavorativo lo fanno però con modelli diversi cioè già questo è un primo è una prima è un primo punto insomma da sottolineare cioè ricorso c'è ricorso a borse lavoro salario di primo ingresso tirocini extracurricolari in età di frequenza e così via il questionario è stato funzionale alla costruzione successiva di schede di valutazione giornaliere con quale scopo quello innanzitutto di indagare e riprendo quello che ha detto il professor Di Iaco da un punto di vista differente perché vogliamo ovviamente evitare un eccessivo ricorso a strumenti del campo socio-sanitario perché vogliamo appunto indagare la capacità lavorativa che i partecipanti a queste attività apportano al processo produttivo e la capacità contemporaneamente relazionale che questi acquisiscono durante queste attività da una lettura dei dati si potrà quindi sia delineare il percorso che ciascuno dei partecipanti il percorso seguito da ciascuno dei partecipanti ma anche leggere con risultati aggregati la valutazione del percorso effettuato da un'azienda invece che da un'altra la progettazione di queste schede è stata ovviamente anche qui con un approccio multidisciplinare condivisa con i membri del comitato tecnico che ovviamente come vi ho detto hanno un diverso background una diversa formazione e costituiscono i famosi attori con diverse competenze e attitudini ovviamente queste schede sono state impostate discusse testate sono state adottate due schede giornaliere di valutazione per i partecipanti in funzione appunto dei partecipanti e delle delle difficoltà che questi hanno che tipo di svantaggio ora lo strumento quindi di queste cioè queste schede sono basate ovviamente su una letteratura attenta ma anche su una scheda scientificamente validata utilizzata per un progetto precedente ovviamente sono state rimodulate in funzione del progetto di cui ci stiamo occupando e come vi dicevo sono stati utilizzati all'interno delle schede per la valutazione i famosi strumenti agricoli cioè le piante gli animali gli ambienti produttivi che ovviamente rientrano in sono strumenti fondamentali di dicoterapia ma rientrano anche in quei processi produttivi nei cicli produttivi in questi determinati percorsi di inserimento sociolavorativo vengono utilizzate le scale Likert a cinque passi ovviamente con scale diverse a seconda ovviamente degli item ora il come ho descritto le schede appunto sono due in base alla tipologia di utenza che viene coinvolta in questi percorsi di inserimento sociolavorativo la parte comune prevede oltre che l'anagrafica la valutazione della comunicazione funzionale il grado di indipendenza il comportamento lavorativo l'attitudine al lavoro e l'integrazione al lavoro agricolo la scheda dedicata alle persone con un soggetto lieve e sociale ha in più alcune altre domande che vanno ad indagare la capacità di adattamento al contesto lavorativo delle persone che partecipano a questi percorsi ora ovviamente come ho detto è un processo ongoing tali schede sono attualmente cioè al 23 settembre già state testate e vengono utilizzate da una delle cooperative agricole verranno in questa appunto settimana inizio della prossima utilizzate incominciate a utilizzare anche all'interno di tutte le altre realtà che si occupano di inserimento lavorativo appartenenti al gruppo operativo ora prime considerazioni ovviamente insomma ehm la questa rilevazione cioè questo questa parte del gruppo operativo ehm ha come obiettivo finale la rilevazione qualitativa e quantitativa attraverso quelle schede di cui vi ho parlato ehm eh perché vuole costruire eh una narrazione condivisa narrazione condivisa che mette in evidenza metta in evidenza il ruolo dell'agricoltura sociale in questi percorsi ehm ancora ci stiamo facendo delle domande cioè eh questi inserimenti lavorativi attivati in agricoltura sociale possono affrancare dall'istituzione psichiatrica cioè possono favorire questo affrancamento eh non totale ma compiere dei passi verso l'affrancamento e inoltre il lavoro in agricoltura eh promuove una migliore qualità di vita favorendo il processo di ricoveri come si intersecano eh autonomia lavorativa ma anche autonomia abitativa che sappiamo bene vanno di pari passo in ultima analisi insomma ehm ci chiediamo l'agricoltura sociale può favorire percorsi di uscita dalla presa in carico istituzionale e favorire un inserimento eh non solo lavorativo ma anche quindi e di conseguenzialmente sociale nella comunità di vita eh quindi in questo percorso interdisciplinare di cui vi ho parlato eh queste schede consentono o speriamo consentiranno insomma di tradurre in indici quantitativi eh sia il percorso terapeutico eh e riabilitativo ma anche ehm riuscire a eh determinare il valore economico derivante dal rafforzamento appunto di questo eh legame sociale eh io ho una domanda perché ehm questo lavoro è stato svolto all'interno di un gruppo operativo che ha poi l'obiettivo come tutti i gruppi operativi di portare le innovazioni nelle aziende diciamo non ha tanto l'obiettivo di lavorare con i soggetti diciamo così no che siano consumatori che siano fruitori di servizi eccetera ma a questa prospettiva che per noi può essere limitata però diciamo uno strumento indirizzato a questo quindi mi chiedevo eh sicuramente voi avete come ho poi spiegato all'inizio fra i partner diversi soggetti anche delle imprese agricole qualcuno che già conosceva aveva già avviato percorsi di agricoltura sociale qualche impresa invece nuova volevo capire se avete anche degli strumenti e qualche risultato già rispetto proprio al all'impatto è presto per parlare dell'impatto però diciamo così in qualche modo ha gli effetti di questo coinvolgimento delle imprese agricole in attività di agricoltura sociale perché questa è l'altra parte che secondo me è molto interessante quindi capire se avete anche una parte relativa a questo oppure vi siete concentrati in questo processo valutativo soltanto su diciamo così soggetti coinvolti perché le tre dimensioni possono relare essenzialmente ai soggetti coinvolti mi sembra di aver capito sì sì no allora io ovviamente vi ho presentato il percorso che abbiamo avviato rispetto alla valutazione il gruppo operativo come già avevo detto consta di 41 soggetti delle aziende agricole anti grazie insomma della domanda Francesca perché è interessante notare che le aziende agricole non sono poche sono otto alcune di queste attuavano percorsi di agricoltura sociale e neanche lo sapevano prima del 2015 anno in cui esce sia la legge regionale prima di due o tre mesi rispetto alla nazionale e quindi insomma abbiamo coinvolte tali aziende ovviamente saranno sono molte la maggior parte coinvolte in percorsi di inserimento sociolavorativo sì il gruppo operativo ovviamente tra le altre cose uno degli obiettivi è la sperimentazione in ambito agricolo che prevede la progettazione e la realizzazione di processi produttivi in ambito ovviamente insomma delle attività agricole e zootecniche e ovviamente più funzionali alle caratteristiche strutturali di ciascuna realtà ma sì all'interno sempre del progetto presentato c'è anche la parte diciamo della sperimentazione sociale che va di pari pazzo perché si ambisce ad arrivare a una modellizzazione che come sappiamo bene non è diciamo valida per tutti ma prevederemo diversi modelli all'interno appunto del territorio umbro delle realtà che già sono attive in questo ambito ma anche di quelle che ci si stanno affiancando i modelli ovviamente prevederanno diversi diversi percorsi in base alle macro aree individuate che vi ho detto prima cioè l'inserimento sociolavorativo i percorsi terapeutico riabilitativi e i percorsi educativi formativi sarà interessante e c'è scritto appunto anche negli obiettivi del progetto anche un processo di standardizzazione e accreditamento dei servizi socio-sanitari connessi all'agricoltura sociale perché appunto la multidisciplinarietà coinvolge anche come vi ho detto anche il partenariato e quindi c'è tanta cooperazione all'interno di questo gruppo operativo e un risultato di cui non vi ho parlato ma ve lo posso riportare è anche la costituzione è iniziato da poco il progetto le attività del progetto ma già lo stiamo vedendo la costituzione di reti tra i soggetti partner che già si stanno muovendo per verso anche altri altri lidi cioè altri bandi che a livello regionale sono usciti e quindi diciamo già qualcosa no di costituzione di rete la stiamo notando non so se ti ho risposto Francesca perché poi inizio a parlare e non mi grazie bene grazie grazie Francesca non so se ci sono altre domande farei una domanda chiara se non ci sono altre domande prego Carlo proprio per la complessità della costruzione della partnership e di tutto il lavoro di concertazione rispetto anche agli obiettivi quindi quello che poi vi ponete come esiti del progetto che è quello di in qualche modo costruire dei percorsi di inserimento sociale così affraccandosi un po' da quello che è diciamo la presa in carico anche dei servizi pubblici ecco volevo sapere rispetto ai diversi servizi pubblici che poi si occupano di queste vulnerabilità che tipo di rapporto di che tipo di accordi insomma come si sono e se si sono inseriti un po' in questo progetto perché secondo me questo è un altro punto importante quando poi si tocca lo sviluppo di ulteriori percorsi rispetto a quello che è poi il sistema di servizi che ogni regione ogni territorio ha assolutamente assolutamente allora avendo seguito è quasi figlio nostro no? no quasi è figlio nostro il gruppo operativo quindi insomma già dall'inizio c'è stato un cercare di coinvolgere gli enti preposti questi non sono all'interno del gruppo operativo ma non perché non interessati anzi ma non sono entrati a far parte del gruppo operativo anche in convenzione solo e semplicemente per non so in non so nelle altre regioni le vostre regioni ma penso insomma sia purtroppo un difetto comune italiano per l'eccessiva lungaggine burocratica che prevede una qualsiasi forma di connessione convenzione eccetera eccetera con i progetti ovviamente la presenza massiccia come ho descritto insomma di soggetti della cooperazione ma anche molto molto grandi che offrono servizi in tutta l'Umbria e alcuni anche fuori Umbria va da sé che diciamo la connessione sia con i servizi del territorio deputati sia quasi indiretta costante ma indiretta perché perché non figurano ma sono presenti e soprattutto nelle aree in cui cioè all'interno dei partner in cui già c'erano percorsi di agricoltura sociale la connessione con il servizio pubblico è ben conscia ben conscia di queste attività che molto spesso sono iniziate da diversi anni molto prima che il gruppo operativo fosse approvato bene grazie sì poi in effetti le situazioni anche a livello regionali appunto sono diverse anche sicuramente comunque rimane la difficoltà di creare partnership molto spesso ci siamo trovati anche scusa Carla riprendo quello che stai dicendo tu molto spesso ci siamo trovati anche e questo io non so anzi lo condivido con voi a non sapere a chi rivolgerci non per questo progetto perché ovviamente avevamo il filtro preferenza e la connessione preferenziale tra cooperative e servizi cooperative di tipo adigo soprattutto ma in altre progettualità ci siamo trovati di fronte alla domanda chi chiamiamo a chi ci rivolgiamo perché molto spesso o perlomeno in regione umbria così molto fa il singolo molto fa la volontà del singolo responsabile amministratore che con proprio ovviamente sensibilità porta avanti la la tematica siamo Fabio De Blasis sono a sinistra di ricerca al dipartimento di economia società politica dell'università di Urbino e assieme a Eduardo Barberis Angela Genova Elisabetta Mancinelli Elena Viganò vi presentiamo questo contributo dal titolo percorsi innovativi di inclusione sociolavorativa dei migranti in agricoltura esperienze e modelli a confronto si tratta di un contributo preliminare che ha origine a sua volta da uno studio che il nostro dipartimento sta realizzando nell'ambito di un progetto FAMI PINACU promozione di percorsi di inclusione attiva nel settore agricolo di qualità un progetto implementato da una rete multisettoriale composta da cooperative sociali impegnati sul fronte dell'accoglienza di migranti enti di formazione professionale associazioni di categoria del settore agricolo istituti di ricerca università tra cui appunto il nostro dipartimento che si sta occupando di realizzare una ricercazione che ha tra gli obiettivi principali quello di individuare analizzare buone pratiche di inclusione socio-laborativa di migranti richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale nel settore agroalimentare prestando particolare attenzione a sistemi sostenibili dal punto di vista ambientale sociale con il fine ultimo di fornire degli elementi utili agli stakeholders del settore agricolo e dell'accoglienza che possono contribuire allo sviluppo di interventi iniziative organici condivisi per la prevenzione e il contrasto allo sfruttamento lavorativo e la promozione di lavoro dignitoso appunto nel settore agricolo ci concentreremo soprattutto sul percorso che stiamo seguendo per individuare alcune pratiche innovative sui criteri che abbiamo utilizzato per la valutazione e la comparazione tra loro di diverse esperienze in particolare di agricoltura sociale dal punto di vista metodologico abbiamo proceduto inizialmente con una mappatura di potenziali buone pratiche a livello nazionale utilizzando soprattutto lo strumento di una scheda di rilevazione che è stata da noi elaborata in seguito somministrata a diverse tipologie di soggetti promotori iniziative a sostegno dell'inclusione sociolavorativa di migranti soggetti che sono stati a loro volta identificati e raggiunti o attraverso le reti dei partner di progetto soprattutto per quanto riguarda le cinque regioni focus dell'intervento del centro nord che sono Lombardia Friuli Venezia Giulia Marche Umbria e Lazio oppure sono stati identificati tramite ricerca desk e raggiunti attraverso un contatto diretto tramite email questa scheda è stata utilizzata inizialmente per accorgere le informazioni preliminari sulla tipologia dei soggetti promotori la composizione dei partenariati la tipologia dei beneficiari le attività i principali risultati raggiunti informazioni che sono servite sia a mettere a fuoco gli elementi da approfondire nella fase successiva della ricerca tramite interviste qualitative semistrutturate sia a individuare quelle esperienze potenzialmente più rilevanti ai fini degli obiettivi del progetto PINACU e dello studio che stiamo realizzando in questa prima fase quindi abbiamo siamo arrivati a identificare 82 potenziali buone pratiche distribuite in 15 regioni italiane che vedono come enti promotori principalmente associazioni OLLUS aziende cooperative agricole cooperative sociali cooperative agricoli sociali si tratta di esperienze nella maggior parte dei casi multiattore che hanno portato alla realizzazione di interventi anche piuttosto eterogenei che vanno da percorsi formativi attivati principalmente nell'ambito dei progetti di accoglienza ex-sprar oggi sai che si realizzano attraverso corsi di formazione agricola a cui segue il tirocino formativo coinvolgendo spesso le realtà territoriali legate al mondo dell'agricoltura sociale abbiamo individuato dei programmi o servizi per l'orientamento al lavoro e il matching della domanda e dell'offerta di manodopera agricola incluse iniziative che hanno portato ad esempio la creazione di contratti di rete territoriale per la condivisione di manodopera agricola tra imprese selezionate sulla base dei criteri etici esperienze di inserimenti lavorativi presso realtà dell'agricoltura sociale ma anche esperienze più di mercato legate magari a imprese più convenzionali esperienze di produttive cooperative di autoimprenditorialità migrante nel settore agricolo fino a iniziative che hanno portato alla costituzione di alternative film networks o filiere etiche nate soprattutto nel sud Italia dall'iniziativa di movimenti contadini o lavoratori migranti con l'obiettivo esplicito di contrastare lo sfruttamento lavorativo e caporalato promuovendo modelli alternativi di produzione di lavoro e di consumo nel complesso circa la metà di queste di queste pratiche mappate può essere ricondotta direttamente o indirettamente a esperienze di agricoltura sociale che quindi si conferma sempre più rilevante nei percorsi di inclusione sociolavorativa dei migranti inseriti o in uscita dal sistema d'accoglienza ma anche nei percorsi di reinserimento delle vittime di sfruttamento lavorativo in una seconda fase della ricerca a partire quindi da questa mappatura abbiamo proceduto ad approfondire i casi più rilevanti diciamo per gli obiettivi del nostro progetto per questo contributo ci siamo focalizzati esclusivamente su pratiche di agricoltura sociale abbiamo selezionato eventi sulla base della rilevanza della tipologia dell'attività abbiamo cercato di includere nel campione esperienze che coinvolgono in misura significativa beneficiari i migranti non tanto in numero assoluto quanto rispetto al totale di beneficiari magari della pratica abbiamo cercato di mantenere una distribuzione territoriale omogenea abbiamo cercato di tenere in considerazione quelle esperienze in fase di avanzata sperimentazione comunque consolidate 15 soggetti promotori hanno risposto positivamente alla nostra richiesta di interviste quindi è stato possibile approfondire le rispettive esperienze mediante interviste semistrutturate che sono state designate sulla base dei criteri proposti utilizzati recentemente dall'Orile insieme al ministero del lavoro e delle politiche sociali per la valutazione di azioni di contrasto allo sfruttamento e di promozione del lavoro dignitoso nell'ambito del piano triennale nazionale contro lo sfruttamento del caporalato brevemente con la pertinenza e la coerenza abbiamo rilevato la capacità complessiva degli interventi e dei soggetti promotori di progettare e sviluppare iniziative diciamo basali su un'analisi sistematica del contesto e della situazione e quindi di mettere in campo delle iniziative che rispondano concretamente ai bisogni dei beneficiari migranti abbiamo ci siamo concentrati per esempio sui processi di sulle modalità di canali e le modalità di coinvolgimento dei beneficiari migranti sulle relazioni tra sistema di accoglienza e sistema agricolo sulle partnership territoriali e le relazioni con altri enti e istituzioni con l'efficacia e l'impatto siamo andati a valutare abbiamo provato quantomeno a valutare la capacità di raggiungere gli obiettivi preposti risultati attesi di generare quindi cambiamenti positivi per quanto riguarda l'inclusione sociolavorativa dei migranti di medio e lungo periodo qui abbiamo cercato di verificare l'esistenza di valutazione dell'impatto di sistemi di monitoraggio ex post delle pratiche per cercare di comprendere ad esempio gli esiti dei percorsi formativi anche in relazione alla situazione occupazionale successiva rispetto alla fruzione della recuperazione dei servizi in altri casi si è cercato di comprendere gli effetti dell'iniziativa avviata sulle condizioni lavorative e sulle condizioni abitative con l'efficienza abbiamo fatto riferimento alla capacità di utilizzo di utilizzare le risorse finanziarie umane e materiali in modo funzionale al raggiungimento degli obiettivi dell'inclusione sociolavorativa con la sostenibilità sia rilevata invece la capacità di produrre benefici duraturi o comunque di mettere in atto delle strategie che consentano all'attività o benefici prodotti di continuare oltre il termine del finanziamento in caso di progetti finanziari oltre il termine del supporto iniziale ricevuto con l'innovazione abbiamo misurato la capacità di formulare approcci metodologie o strategie originali con riferimento ad esempio ai contenuti dei corsi di formazione o alle modalità di svolgimento di tirocini o di selezione dei beneficiari per quanto riguarda soprattutto i progetti attivati nell'ambito dell'accoglienza o anche nel caso di esperienze produttive ad esempio avviate dagli stessi migranti abbiamo valutato la strategia di produzione di commercializzazione dei prodotti con la replicabilità infine abbiamo fatto riferimento quindi alla capacità della pratica o di alcuni aspetti di essa di essere trasferita adattata ad altri settori ad altri territori o anche verso altre tipologie di beneficiari in questo modo siamo arrivati ad identificare per il momento quattro esperienze che più rispondono ai criteri di buona pratica proposti dall'OIL si tratta di un progetto formativo di apicoltura sociale rivolto a richiedenti asilo e rifugiati che vede come ente promotore un'associazione di promozione sociale impegnata nell'accoglienza di migranti nella provincia di Alessandria un progetto che coinvolge l'associazione di categoria del settore apistico sia regionali sia nazionali e l'organizzazione di accoglienza e che si realizza attraverso un corso di formazione professionale pratico teorico intensivo a cui segue l'attivazione di un tirocino formativo presso aziende apistiche dislocate su tutto il territorio italiano che vengono selezionate dall'associazione sulla base di criteri etici nel secondo caso si tratta di una cooperativa agricola sociale campana che promuove anche qui percorsi di inserimento sociolaborativo principalmente per rifugiati e richiedenti asilo attraverso la formazione professionale nel settore dell'olivicoltura principalmente ma anche della frutticoltura e dell'agricoltura attivando tirocini in questo caso sia presso la stessa cooperativa agricola sia presso imprese partner grazie alla rete di imprese dell'agricoltura sociale che è stata creata dalla cooperativa in collaborazione con enti di categoria in questo caso regionali brevemente da queste prime due esperienze per certi versi simili sono emersi alcuni elementi che possono essere valorizzati nella costruzione di percorsi di inclusione soprattutto nell'ambito dei progetti di accoglienza che probabilmente possono essere anche utili alla fine della costruzione di indicatori specifici diciamo per la valutazione dei progetti di agricoltura sociale in questo ambito che riguardano ad esempio i contenuti dei corsi di formazione che spesso includono che in entrambi i casi includono ad esempio moduli settoriali sul lessico agricolo sui diritti e doveri dei lavoratori sull'orientamento ai servizi con l'obiettivo di favorire poi il processo di integrazione sociale nel periodo di tirocinio e quindi aumentare la probabilità che questo si trasformi poi in un contratto di lavoro ad esempio un altro elemento distintivo di questi due prati è quello di il lavoro di scouting aziendale che quindi le modalità di selezione e di coinvolgimento delle imprese dell'agricoltura sociale nel caso di BMIJob ad esempio alle imprese in cambio di un contributo economico pari al 50% dei costi di tirocinio si richiede di firmare una carta etica vincolante risposta da un team di esperti volta a prevenire fenomeni di sfruttamento del lavoro assicurare buone relazioni sul luogo di lavoro e assicurare anche che vengono acquisite effettivamente delle competenze al termine del tirocinio negli altri due casi si tratta di esperienze produttive di lavoro cooperativo avviate dagli stessi migranti l'associazione Casa Sanca Racchetto Out è stata avviata è stata fondata da ex braccianti vittime di caporalato nel Foggiano e a cui è stata affidata la gestione di uno spazio dalla regione Puglia per l'accoglienza di soprattutto di lavoratori migranti stagionali del settore agricolo ma anche di richiedenti asilo e rifugiati dove vengono offerti diversi servizi tra cui l'orientamento legale ma anche la formazione professionale agricola e percorsi di inserimento lavorativo in agricoltura grazie alla gestione di una impresa agricola che è guidata in concessione dalla regione Puglia che oggi vede impiegare diverse decine di migranti che hanno dato vita all'esperienza raccolta la terra della libertà si tratta di una filiera E un progetto di produzione della salsa di pomodoro etica che nel 2021 ha raggiunto anche gli scaffali della grande distribuzione organizzata anche nel quarto caso si tratta di un'esperienza produttiva ideata e avviata da sette migranti africani anche qui ex braccianti che risiedevano in questo caso negli inserimenti informali di Rosarno prima di giungere a Roma dove grazie al supporto di reti informali anche della società civile e un finanziamento della regione Lazio è stata avviata un'esperienza di produzione e commercializzazione di yogurt biologico progetto che in pochi anni ha conquistato una nicchia importante all'interno dei mercati contadini dei gas della provincia romana raggiungendo sia una sostenibilità economica quindi garantendo un reddito un lavoro dignitoso ai propri sette soci ma anche uno degli elementi significativi di questa pratica è che i sette migranti sono trasformati da beneficiari di percorsi di inclusione a promotori in quanto la cooperativa agricola oggi si è impegnata in diverse attività di inclusione sociolavorativa rivolte a persone italiane con disabilità miste in una fase successiva quindi procederemo sia a un ulteriore approfondimento dei casi mappati sia cercando di includendo nella pratica degli interlocutori anche i partner delle pratiche oltre ai soggetti promotori cercando di riflettere anche su come soppesare magari i criteri di valutazione adottati sulla possibilità di integrare nel modello degli elementi che possono essere utili a una valutazione più contestualizzata e multidimensionale a partire anche dalle difficoltà che sono state incontrate nella raccolta delle informazioni adottando questi criteri oil che riguardano da un lato difficoltà legate alla raccolta dell'informazione sull'utilizzo dei fondi in alcuni casi non è stato possibile raccogliere queste informazioni soprattutto in caso di progetti non finanziati ma anche le difficoltà che abbiamo incontrato nella raccolta delle informazioni necessarie alla valutazione degli impatti proprio sull'inclusione social lavorativa di medio lungo periodo a causa o della mancanza di sistemi di monitoraggio ex post oppure anche laddove questi sono presenti nella difficoltà da parte degli antigestori nei processi valutativi ex post di seguire i percorsi dei beneficiari migranti a causa della mobilità soprattutto per quanto riguarda le persone inserite nel sistema d'accoglienza la cui presenza sui territori è vincolata agli esiti all'iter di richiesta asilo da questa prima fase sicuramente sta emergendo la necessità di mettere a punto degli strumenti di valutazione in relazione all'agricoltura sociale specifici che siano in grado di tenere in considerazione i bisogni specifici della popolazione migrante che oggi probabilmente ancora non siamo diciamo in grado di individuare degli strumenti condivisi applicabili appunto a questa tipologia di utenza lascerei magari la parola Angela Genova se vengo dal lavoro fatto proporrei una riflessione quindi una meta riflessione sui processi di valutazione a partire dall'esperienza che abbiamo realizzato noi in questo progetto mi sembra che allacciandomi a qualcosa che abbiamo già ampiamente condiviso il tema della complessità della valutazione è evidente e mi chiedevo se la lettura classica della sociologia sulle tre dimensioni macro meso e micro possa venirci incontro per cercare un po' di dipanare la complessità del tema nell'esperienza che abbiamo fatto mi sembra che abbiamo lavorato a un livello macro proprio nell'applicazione di quelle categorie valutative identificate dall'OIL nella selezione delle buone pratiche proprio nella logica di andare a vedere in che maniera la politica e quindi le scelte a livello nazionale hanno poi sono state effettivamente implementate quindi mi sembra che ci sia un livello macro di valutazione che si riallaccia al quadro regolativo di policy previsto dall'OIL mi sembra che ci sia un livello meso che vada invece a guardare le attività delle singole attive le esperienze quindi delle singole aziende agricole e poi ci sia un livello micro che vada invece ad analizzare il punto di vista degli attori coinvolti e nel nostro caso specifico delle persone migranti mi sembra che il processo di valutazione e le riflessioni sul sistema di valutazione partendo dal nostro caso di ricerca possano arricchirsi mettendo in evidenza quanto nel nostro caso quello che è sicuramente necessario fare come Fabio diceva è un approfondimento a livello meso coinvolgendo i diversi stakeholder nelle singole esperienze delle aziende agricole ma credo che la sfida più grande ed è quella che sinceramente a me interessa di più in particolar modo sul versante dei migranti in particolar modo nella fase proprio di accoglienza dei migranti e il livello micro per ascoltare il loro punto di vista rispetto a questa offerta che viene fatta di accoglienze in agricoltura sociale quanto questa è in sintonia con le loro effettive aspettative nell'arrivo e nell'essere appunto accolti in Italia quindi ecco chiudo dicendo che nel nostro caso sul livello macro siamo a buon punto sul livello meso magari identificeremo alcune aziende sulle quali fare un approfondimento ma sicuramente andare a sentire la voce dei protagonisti dei percorsi di inclusione è secondo me indispensabile grazie grazie Angela considerando i tempi io procederei così insomma abbiamo anche la seconda parte della sessione quindi alcuni temi poi li possiamo riprendere anche in merito a questo intervento che è un grande tema quello appunto dell'immigrazione e dell'opportunità dell'agricoltura sociale ma anche dei sistemi di valutazione che appunto come diceva Angela sicuramente tocca più livelli ma che va anche dover in qualche modo includere secondo me anche poi quello che è un'analisi più complessiva del territorio dei sistemi di servizi che è fondamentale per l'impatto può presentare il proprio contributo Cristina Gagliardi è un progetto come vedete finanziato con il PSR 2014-2020 e si tratta dell'attività di un gruppo operativo il gruppo operativo è complesso io qui non non l'ho presentato perché appunto avrebbe richiesto molte slide che mi avrebbero poi portato a non potervi invece spiegare come abbiamo proceduto con la valutazione si tratta di un gruppo che comprende aziende agricole che si occupano di agrinido e aziende agricole che si occupano di longevità attiva noi qui parleremo solo della longevità attiva in quanto appunto io sono una ricercatrice dell'IRCA che appunto è l'istituto nazionale per lo studio la ricerca e la salute sull'invecchiamento con sede ad Ancona altri partecipanti a questo gruppo operativo sono oltre alle sette aziende agricole abbiamo l'Assam che è l'agenzia di servizi del settore agroalimentare della regione Marche abbiamo ORT che è uno spin off all'università di agrare di Ancona abbiamo iCare che è l'agenzia nazionale per la campagna e l'agricoltura sociale responsabile ed etica tutte queste informazioni potrete approfondirle appunto anche solo consultando la pagina facebook per finire con questa prima slide vedete il nostro gruppo di lavoro interno all'IRCA sono ricercatori con diversi profili che hanno contribuito alla creazione del protocollo che vi andrò ad illustrare brevemente è un progetto di innovazione riferito alle aree rurali nel nostro caso per la sezione lungività attiva noi vogliamo applicare abbiamo voluto applicare un modello che è già stato elaborato in un precedente una precedente esperienza ed è stato anche che abbiamo sperimentato e poi la giovane Marche ha accolto in una sua delibera regionale anch'essa consultabile sul loro sito e che cosa prevede questo laboratorio la realizzazione di laboratori per la longevità attiva giardini sensoriali esperienze di co-housing per persone anziane nelle aziende agricole il progetto si sviluppa su quattro aziende agricole distribuite nella regione Marche l'IRCA si sta occupando del monitoraggio scientifico della validazione e pubblicazione dei risultati chiaramente da cosa partiamo c'è un paradigma teorico di riferimento che è quello appunto della longevità attiva quindi la promozione di una visione positiva dell'invecchiamento e attraverso le esperienze in aziende agricole noi spingiamo questo paradigma cercando di rendere l'anziano una persona attiva nella società scoprire nuovi valori di vita dare un senso al tempo condividere le esperienze con altre persone imparare cose nuove prendersi cura della salute quindi brevemente il progetto si pone l'obiettivo di sviluppare servizi innovativi per gli anziani favorire iniziative a sostegno dell'invecchiamento attivo o la prevenzione dell'isolamento sociale della non autosufficienza e facilitare l'approccio con attività fisiche adattate agli anziani vogliamo quindi più in particolare promuovere percorsi di sostegno al benessere fisico in ambiente naturale sostenere l'adozione di vita sani con particolare attenzione ad alimentazione e attività fisica attivare i laboratori per la mente finalizzati al mantenimento delle capacità cognitive costituire una rete amicale stabile tra i partecipanti di favorire lo scambio attivo tra le generazioni e attività di animazione sociale volevo precisare appunto che o perlomeno sottolineare come in tutte queste attività noi non abbiamo mai perso di vista le peculiarità dell'ambiente agricolo della natura dell'azienda agricola quindi ecco non si tratta di un percorso sanitario assolutamente anche se il nostro istituto è principalmente un istituto di ricerca carattere sanitario ma il nostro centro è un centro di studi socio-economici personalmente io sono una sociologa quindi ci muoviamo nel campo della prevenzione in particolare quello che voglio presentare oggi è lo studio di intervento di agricoltura sociale sulla salute psicofisica di soggetti anziani cioè noi abbiamo voluto cercare di standardizzare un pochino l'attività di valutazione degli esiti sui partecipanti per riuscire ad ottenere nella complessità dell'agricoltura sociale in azienda agricola che voi a cui avete già accennato cercare in questa complessità di ottenere un percorso che ci consenta di fare delle valutazioni standardizzate di ottenere dei risultati che possano essere poi validati anche dalla comunità scientifica questo naturalmente nell'ottica di dare un aiuto in più all'agricoltura sociale da parte del nostro istituto in un'ottica di collaborazione per la parte che possiamo svolgere noi attraverso appunto queste sperimentazioni attraverso degli strumenti validati quindi noi abbiamo un'ipotesi principale ed è che attività svolte in azienda agricola che poi vi descriverò portino a un aumento dell'auto efficacia a seguito di questo programma che noi consideriamo un intervento ipotesiamo poi un aumento dell'inclusione sociale e un miglioramento delle variabili psicofisiche il progetto in generale alla durata di tre anni le aziende che hanno partecipato che stanno partecipando erano originariamente quattro quelle che vedete però la quercia della memoria di San Ginesio per motivi legati sia all'evento sismico 2016 sia alla pandemia non è riuscita ad attivare questa parte del progetto per motivi proprio logistici avendo questo paese subito degli enormi danni cosa la prima cosa da circoscrivere e da rendere diciamo standardizzate in termini scientifici è stata la popolazione dello studio naturalmente noi non abbiamo posto nessun tipo di limite alla partecipazione degli anziani alle attività nelle aziende abbiamo però cercato di modellizzare la procedura per cui abbiamo previsto un arruolamento di 60 anziani nelle tre aziende attualmente al lavoro e abbiamo calcolato se andate a calcolare la potenza statistica di questa scala la general efficacy scale che abbiamo scelto in maniera tale da avere la relativa sicurezza di ottenere un buon risultato da questo studio naturalmente poi nella realtà i partecipanti sono di più però a volte per vari motivi essendo anche persone anziane possono smettere di partecipare o partecipare esaltuariamente quindi diciamo nella a prescindere dalla vitalità estrema di questo progetto e dalla sua assoluta dal suo assoluto orientamento alla libera partecipazione alle attività dell'azienda abbiamo cercato appunto di comunque circoscrivere lo studio a persone che avessero partecipato costantemente alle attività questo si rifa apre una parentesi a un precedente studio pilota che abbiamo realizzato nel 2015 perché è da questo studio che noi abbiamo poi tratto una maggiore capacità di conseguito una maggiore capacità di standardizzare la misurazione nel precedente studio avevamo ottenuto un miglioramento nel livello di social engagement dei partecipanti avevamo verificato un miglioramento nelle relazioni interpersonali degli anziani che ovviamente come sapete possono soffrire di isolamento sociale e un miglioramento anche della loro partecipazione attiva cioè queste persone a seguito di un anno di attività in aziende agricole avevano migliorato i loro skills sia interpersonali ma anche aumentato il numero di attività che svolgevano nella loro routine al di fuori dell'azienda e sulla base di questo risultato noi abbiamo pensato di inserire appunto la dimensione dell'auto efficacia come diciamo dimensione globale omicomprensiva per valutare l'impatto dell'attività dell'agricoltura sociale in più abbiamo aggiunto sempre sulla base di questo studio pilota l'idea di una stimolazione mirata all'incremento dell'attività fisica aggiuntiva diciamo al naturale movimento implisito nelle attività svolte outdoor cioè noi precedentemente avevamo misurato cercato di cogliere un miglioramento nella salute psicofisica che è naturalmente implicito nel fatto di svolgere attività nell'azienda agricola partecipando alle attività peculiari in ciascuna azienda però abbiamo voluto includere una simulazione mirata naturalmente in relazione al fatto che la persona anziana ha in primis necessità di non perdere le sue capacità funzionali di movimento e l'azienda anche qui l'azienda agricola avrebbe potuto aiutarci in questo abbiamo allora diviso le attività che si possono svolgere in azienda agricola in due categorie da una parte abbiamo queste attività standard noi le abbiamo definite dove possono avvenire essere diciamo avviati laboratori creativi riferiti sempre al mondo agricolo all'artigianato a seconda della diciamo natura dell'azienda agricola in cui si svolgono attività naturalmente di orticoltura coltivazione ad esempio su un piano rialzato oppure tecniche di potatura e di innesto tutte queste attività vengono realizzate in aziende agricole prevediamo poi attività di socializzazione scambio intergenerazionale quindi con cene pranzi con nipoti con bambini delle scuole la stimolazione dell'attività fisica con passeggiate visita agli animali un programma di educazione alimentare rivolto alla terza età e specificamente includente la corretta alimentazione anche relazione a esigenze nutrizionali degli anziani abbiamo poi l'attività opzionale a cui mi riferivo prima cioè un corso di ginnastica outdoor finalizzata appunto a quella specifica stimolazione dell'attività fisica che abbiamo cercato in questo progetto abbiamo poi creato un disegno dello studio appunto per cercare di standardizzare appunto la valutazione ed avere un miglior risultato in termini scientifici senza però mai forzare le persone in nessun modo in direzione di un diciamo un'attività di tipo sanitario assolutamente non prevista ma è più che altro una modellizzazione necessaria ad arrivare anche a disegnare una specie di intervento però di tipo preventivo quindi come vi abbiamo già detto l'obiettivo primario è valutare l'auto efficacia l'aumento dell'auto efficacia che noi ci aspettiamo ma anche gli altri parametri di cui poi già in qualche modo si è già accennato prima l'inclusione sociale la salute psicologica quindi insomma vedete le variabili che abbiamo utilizzato abbiamo escluso non abbiamo messo criteri di inclusione se non l'età praticamente e abbiamo escluso persone che ma non sono c'è stata un'auto esclusione persone anziane che avessero insomma un'aspettativa di vita limitata naturalmente qui c'è una tabella che diciamo non vi leggerò ma riguarda l'incrocio tra il nostro lavoro che abbiamo fatto metodologico tra le attività che si realizzavano le aree di intervento dello studio e gli strumenti utilizzati questa è squisitamente metodologica e riguarda la scelta degli strumenti le variabili dello studio anche qui era solo per mostrare appunto che abbiamo utilizzato variabili strumenti validati nella letteratura che quindi facilitano naturalmente poi lo studio dell'analisi dei dati e anche la successiva valutazione degli esiti e quindi sono tutti strumenti validati per la popolazione anziana e validati in Italia cosa ci aspettiamo da questo studio che è in corso e finirà l'anno prossimo una riduzione della solitudine delle persone anziane e un aumento del loro network sociale quindi non è stato scritto un miglioramento dell'inclusione sociale un miglioramento nelle attività fisiche quotidiane un miglioramento dell'umore della considerazione di se stessi dell'autostima e della qualità della vita qui è giusto una foto che dà un po' il senso della veramente della coesione che si viene a creare tra queste persone che nell'indagine nell'analisi qualitativa che qui non ho riportato attraverso focus group noi la svolgiamo con le focus group affermano di aver trovato un'altra famiglia e che questa famiglia per loro è diventata importantissima ve lo dico con parole di tipo più così emotivo emozionale ma effettivamente è quello che poi a questo livello emerge e mi sembra che questa foto possa rappresentare i loro sentimenti esperienze legate appunto attività proprio di ricerca progetti di ricerca intrapresi sul territorio quello che mi sento però di evidenziare anche ascoltando quelle che sono state le relazioni le prime tre relazioni è che non solo c'è una variabilità negli strumenti che vengono chiaramente proposti ma in queste tre relazioni un po' come in quelle precedenti io trovo che la valutazione sia una valutazione molto collegata alla domanda di valutazione che ciascun progetto si porta dietro e quindi una valutazione più legata agli esiti progettuali piuttosto che a una valutazione come nella sua intervento di apertura ricordava Francesco una valutazione veramente di impatto quindi forse questo è un elemento sul quale poi io spero con voi di avere l'opportunità di discutere al termine di questa seconda sessione perché chiaramente in tutti questi strumenti valutativi che ci sono e che ci sono anche in queste tre relazioni alcuni dei quali vi devo dire non sono strumenti costruiti ad hoc sul progetto ma sono strumenti come dire che provengono dalla letteratura e che i colleghi hanno fatto uno sforzo per adattare alle pratiche di agricoltura sociale quindi questo sicuramente è un elemento importante però sono tutti come dire strumenti che richiedono un notevole sforzo da parte dei colleghi o comunque di coloro che seguono un progetto e che hanno bisogno di costruire un questionario che hanno bisogno di come dire fare dei focus per raccogliere interviste quindi c'è dietro un grossissimo sforzo organizzativo nella predisposizione dello strumento valutativo poi ecco secondo me lo sforzo che noi dovremmo fare è anche capire come questo strumento valutativo che creiamo possa essere replicabile in futuro possa essere portato fuori dal progetto specifico dove magari a volte noi abbiamo a disposizione risorse progettuali per valutare quindi possiamo come dire permetterci tra virgolette di avere risorse a disposizione attraverso i quali raccogliere dati informazioni quindi forse dico forse ma questo apro poi una discussione che spero di continuare alla fine mattinata dovremo anche cercare con questi diciamo primi strumenti di valutazione che sono importantissimi quindi usare come dire il il progetto la progettualità per testare e capire e capire quali punti di forza e punti di debolezza possono avere diversi strumenti ecco io vi devo dire che nelle tre relazioni che ora seguiranno questo tentativo da parte dei colleghi c'è stato l'ho ritrovato come denominatore comune in cui ciascuno per la propria progettualità ha cercato di mettere in evidenza proprio anche gli elementi di difficoltà che quello strumento può comportare in un utilizzo come dire a sistema futuro quindi io lascerei con questo breve insomma osservazione che ho fatto la parola al primo relatore il primo relatore dovrebbe essere il dottor Francesco Basset che ci presenta una una relazione leggo il titolo valutare gli investimenti in agricoltura sociale attraverso la metodologia SROI a te la parola Francesco grazie per questa opportunità di presentare il nostro lavoro all'interno di questo panel che è sicuramente un'ottima occasione di confronto e di crescita quanto meno che sono studenti di dottorato scusate ti interrompo subito Francesco scusami chiederei se fosse possibile ai tre relatori di contenere il proprio intervento nei quindici minuti perché adesso siamo andati nei primi tre interventi e questo per consentire poi di aprire fra tutti noi una una discussione più puntuale quindi se ce la fai ti sarei molto grata grazie assolutamente partendo con un brevissimo framework teorico diciamo che i nuovi obiettivi dell'agenda ventitrenta minima ne mirano la creazione di un valore aggiunto fortemente caratterizzato da componenti sociali e ambientali e questo in campo agricolo significa una maggiore attenzione per il ruolo multifunzionale dell'agricoltura inoltre l'inserimento di nuovi obiettivi quali infusione sociale lotta della povertà all'interno della nuova PAC dei sustainable development goals dimostrano la centralità delle pratiche di agricoltura sociale per il raggiungimento degli obiettivi dell'agenda ventitrenta importante sottolineare qui il ruolo della valutazione dell'agricoltura sociale per verificare l'efficacia di queste pratiche appunto per il raggiungimento degli obiettivi ma anche per valorizzarne per valorizzarla soprattutto agli occhi di quegli attori che ancora non sono orientati agli interni dei processi operativi di agricoltura sociale al fine anche di creare quella multidisciplinarità di cui si è ampiamente parlato nella sessione precedente gli obiettivi della ricerca sono quelli innanzitutto di analizzare le metodologie esistenti in letteratura per la valutazione degli impatti sociali sperimentare l'adattabilità della metodologia del social return investment per valutare gli investimenti di agricoltura sociale e infine viene mostrato un'applicazione di questa metodologia ad uno specifico progetto di agricoltura sociale come detto poco fa il macro obiettivo è quello di dimostrare l'importanza della valutazione per accrescerne la conoscenza e la diffusione da una prima analisi della letteratura si è visto come sono molteplici le metodologie che sono presenti per la valutazione degli impatti sociali diciamo le più utilizzate sono l'analisi costi benefici il social impact assessment e l'analisi SWOT mentre ultimamente sono stati presentati dei lavori che proponevano l'utilizzo del social return non investment per analizzare e valutare le pratiche di agricoltura sociale le caratteristiche principali del social return non investment sono quelle di volere proprio per volere un'esortiva identificazione e conseguentemente un grosso coinvolgimento degli stakeholder la creazione di una mappa degli impatti che individua gli effetti che questi progetti generano sugli stakeholder individuati e sviluppare degli strumenti di calcolo attraverso proxy finanziarie per quantificare in termini monetari questi effetti andando a fare un brevissimo focus su quella che è la metodologia diciamo che attraverso la quantificazione degli outcome con le proxy finanziarie l'obiettivo principale è quello di ridurre le disuguaglianze sociali e il degrado ambientale e migliorare il benessere degli individui vi sono due tipologie di social return investment una prima che è valutativa che avviene diciamo post l'implementazione del progetto e una previsionale che invece avviene anche per una corretta attuazione della metodologia si prevedono sei fasi una prima fase in cui viene stabilito il campo di analisi identificati i principali stakeholder una seconda fase in cui viene costruita quella mappatura degli outcome attraverso le interviste degli stakeholder che ci permette di verificare qual è il cambiamento poi effettivo per le persone a cui è rivolto il progetto quantificare questi outcome attribuirne un valore attraverso la costruzione di prozzi finanziari definire l'impatto calcolare l'indicatore e successivamente restituire analizzare l'integrare attraverso la costruzione di un report l'applicazione che vogliamo mostrare è quella che è stata fatta in uno studio molto recente in cui è stato analizzato l'operato della cooperativa sociale agricoltura capodarco attraverso l'attuazione di un progetto di grotti della buona terra che aveva lo scopo di favorire l'inserimento socio-lavorativo dei pazienti del CER di Velletri l'investimento era fatto esclusivamente dal piano di zona H5 è un progetto che ha durato nel momento di analisi aveva durato triennale ma è stato poi riproposto anche per gli anni successivi prevede due fasi una prima fase di formazione per gli utenti all'interno di agricoltura capodarco una seconda fase di tirocinio in aziende agricole esterne la prima fase è stata quella di creare appunto una mappatura degli stakeholder e attraverso la raccolta dati che è avvenuta su interviste attraverso un questionario diretto la creazione degli outcome i principali stakeholder che sono stati identificati sono stati gli utenti in quanto erano i principali beneficiari del servizio la cooperativa sociale capodarco le aziende agricole che offrivano il servizio di tirocinio il CER di Velletri e il comune di Velletri e infine si è deciso di identificare come stakeholder anche l'ambiente considerandolo un entro responsabilità giuridica gli outcome che sono stati identificati per quanto riguarda gli utenti è sicuramente un miglioramento della qualità della vita una maggiore probabilità di trovare lavoro derivante dalle competenze acquisite all'interno del periodo di formazione e una riduzione dell'isolamento sociale per quanto riguarda agricoltura capodarco un aumento del valore sociale dell'azienda derivato dagli inserimenti social lavorativi che alla fine sono andati a buon fine le aziende agricole che offrivano tirocinio sicuramente come diciamo c'è stato detto all'interno delle interviste i benefici principali sono quelli di una diminuzione di costi di produzione derivante dal fatto che un lavoratore era finanziato dal piano di zona H5 e un aumento reputazionale aziendale il SER di Velletri invece ha avuto come beneficio principale quello di un'effettiva riduzione della probabilità di ricaduta degli utenti che abbiamo analizzato e per il comune di Velletri una minore probabilità che questi utenti commettano reati una riduzione dell'acquisto della sostanza stupefacente e la creazione di lavoratori attivi andando a vedere la costruzione degli indicatori e la costruzione degli indicatori e delle proxy innanzitutto c'è da sottolineare che questi sono stati costruiti mediante i questionari dove possibile e dove invece non è stato possibile creare l'indicatore e la proxy finanziaria attraverso le interviste sono state utilizzate le fonti presenti in letteratura e per motivi di sintesi non mostrerò i risultati per tutte le categorie di stakeholder ma solo per quelle più significative per quanto riguarda gli utenti il miglioramento della qualità della vita è stato misurato attraverso l'indicatore dell'accesso alla borsa lavoro e la proxy è stata quantificata moltiplicando il salario della borsa lavoro per i mesi per cui questa borsa è stata recepita per il numero di utenti la probabilità la maggiore probabilità di trovare lavoro è stata misurata attraverso gli effettivi inserimenti che poi sono avvenuti nel periodo successivo dell'implementazione del progetto in questi casi sono stati solamente due su tredici utenti intervistati uno full time per cui è stato moltiplicato al mese l'utente il valore 800 e uno part time per cui è stato calcolato 400 0,059 il due su tredici che ha la probabilità che questi utenti hanno trovato lavoro la riduzione dell'isolamento sociale invece è stato misurato attraverso il numero di sedute di sostegno psicologico che i nostri utenti non hanno più suffruito di cui non hanno più suffruito e è stata calcolata attraverso i minori costi sociali per il recupero psicologico per quanto riguarda invece lo stakeholder del SEP di Velletri come detto precedente l'ATCAM è la riduzione della probabilità di ricaduta dei pazienti che è stato misurato attraverso tre indicatori differenti il primo è il minore numero di visite dal medico è misurato appunto tramite il costo medio delle visite una riduzione di utilizzo di medicinali che varia da 0 a 09 a seconda dei casi e una riduzione del numero di ricoveri per malattie infettive che è stato calcolato utilizzando i dati presenti sul sito del sistema nazionale che prevede un costo medio di 1024 euro al giorno moltiplicato per la probabilità che un paziente presente nel sistema del CERD sia affetto da malattie infettive per quanto riguarda invece il comune di Velletri gli outcome sono tre e sono la minore probabilità di commettere reati che è stata calcolata attraverso i minori costi detentivi anche qui sono state utilizzate i conti presenti in letteratura ed è stato utilizzato il costo di un detenuto per il sistema carcerario che è stato poi moltiplicato per la probabilità che un paziente del CERD commettere reati che rientri all'interno del sistema carcerario la riduzione di acquisto di sostanza stupefacente come indicatore è utilizzata la minore circolazione di sostanze stupefacenti calcolando anche più attraverso uno studio presente in letteratura del professor Cerpelloni il costo del stupefacente che varia a seconda dell'acquisto di dosi giornaliere o settimanali moltiplicato per il numero di utenti infine la creazione di lavoratori attivi in quanto si è considerato una maggiore emissione del denaro nell'economia locale ed è stato calcolato essendo diciamo il salario molto diciamo di sussistenza è stato calcolato quanto meno l'ottanta per cento di questo salario rientrava nell'economia nelle economie locali per l'acquisto di beni essenziali una volta diciamo calcolati tutti gli outcome entrano in gioco due variabili una prima che è quella del dead white in cui vengono diciamo viene ridotto del 10% il valore dell'outcome in quanto si suppone che comunque questi cambiamenti si sarebbero potuti verificare anche al di fuori del progetto e il drop off che è la variabile del tempo in questo caso però è stato calcolato pari a zero in quanto si è supposto che maggiore sia la durata del cambiamento e quindi del progetto maggiore sia il beneficio prodotto questo sicuramente per la categoria di soggetti che abbiamo studiati che essendo una categoria di soggetti affetti da dipendenze si è supposto che maggiore sia il periodo in cui si riesce a mantenere questi soggetti lontano dalla dipendenza maggiore sarà il beneficio appunto prodotto l'indicatore SROI ha restituito come risultato a seconda delle stime che abbiamo fatto in precedenza un valore di due euro due euro circa o quattro euro circa per ogni euro investito attraverso questa tabella si può vedere quella che poi è la caratteristica principale della SISROI che è quella di poter suddividere il risultato sia per gli stakeholder e quindi far vedere come comunque le pratiche di agricoltura sociale hanno un beneficio per tutti gli stakeholder e tutti gli attori che ne entrano in gioco sia suddividere questo risultato per le tre componenti della sostenibilità ovvero quella economica sociale e ambientale da una prima analisi si può vedere come il 95% del risultato sia concentrato sulle categorie degli utenti del SERS e del comune di Velletri e come solo il 5% ricade sulla componente ambientale in conclusione diciamo che gli studi analizzati hanno sicuramente mostrato l'esigenza di una metodologia standardizzata per la valorizzazione e la valutazione degli impatti sociali e questo deriva soprattutto dalla forte soggettività che è presente in questa analisi soprattutto nella costruzione di indicatori e proxy e sicuramente maggiori saranno gli studi in futuro maggiore sarà la probabilità che questi indicatori siano standardizzati per tutti i tipi di analisi il social return on investment è risultato comunque uno strumento adeguato per la valutazione degli investimenti soprattutto per quanto riguarda la fase di coinvolgimento degli stakeholder e la fase di quantificazione dei benefici sociali si è comunque vista un'esigenza di nuove politiche sociali al fine di rendere queste pratiche sostenibili nel lungo periodo in quanto come detto precedentemente alla fine del progetto due utenti su tredici hanno trovato lavoro e quindi ci si chiede se effettivamente questa sostenibilità sia esplosivamente di breve periodo oppure possa avere dei risvolti anche nel lungo periodo soprattutto attraverso quel sistema di welfare di collaborazione tra enti pubblici attori di welfare enti privati e imprese agricole che possano permettere di mantenere questa sostenibilità anche nel lungo periodo creando un welfare rigenerativo che possa non solo non consumare le risorse presenti ma possa rigenerarle e creare un valore sociale di cui può beneficiare tutta la società infine si è verificata l'importanza della valutazione degli infatti sociali per il raggiungimento di quegli obiettivi di sostenibilità previsti dall'agenda 2030 presentati in introduzione grazie a tutti e a tutti per l'attenzione di seguito ho lasciato i nostri contatti per eventuali chiarimenti futuri grazie Francesco per il tuo intervento quindi come già dicevo nella presentazione quindi uno strumento che il gruppo che ha preparato questo paper ha cercato di adattare al tema dell'agricoltura sociale chiaramente come tu dicevi in alcuni casi ricorrendo a dati che provengono da interviste altri facendo semplicemente una valutazione su ciò che è già presente a livello di letteratura quindi grazie veramente per il tuo contributo e chiederei se i colleghi che appunto sono collegati se hanno qualche domanda nessuna domanda specifica su questo se posso Francesco approfitto che non ce ne sono una domanda per farne una io è chiaro è interessante il lavoro che avete fatto e chiaramente viene la voglia di entrare nel merito di alcune delle voci che hai presentato in particolare il il tema riguarda da una parte per capire meglio l'aspetto sulle malattie infettive nel senso che c'è una stima del fatto che le persone che fanno agricoltura sociale hanno meno ricadute dal punto di vista delle malattie infettive capisco così da quello che è stato presentato ma posso posso aver capito male e nel caso qual è l'informazione che porta a questo a questa comparazione a questa valutazione l'altra cosa è relativa al computo delle borse lavoro all'interno della valutazione perché poi tu ci dici appunto che dei 13 di fatto due hanno trovato continuità lavorativa e quello giustamente è un esito la borsa lavoro chiaramente è un dato di spesa della politica pubblica che probabilmente trovo anche in altri progetti in onda agricoltura sociale e questo mi porta ad un altro elemento un'altra considerazione ma la faccio ad alta voce la necessità in tali casi di verificare anche l'effetto differenziale nel senso cosa in più nelle pratiche di agricoltura sociale rispetto a quelle ordinarie perché nel caso delle borse lavoro questo emerge abbastanza evidente le borse lavoro le posso spendere in tanti luoghi anche in una pratica di agricoltura sociale come quelle che avete valutato però appunto forse l'interessante è valutare il differenziale però ecco proprio tre questioni così abbraccio grazie mille professore per le considerazioni e allora la prima domanda rispondo che le malattie infettive no forse mi sono spiegato male il collegamento non era strettamente tra agricoltura sociale e malattie infettive il collegamento era che gli utenti che hanno potuto partecipare a questi progetti hanno avuto una minore probabilità di ricaduta nella dipendenza la minore probabilità di ricaduta cioè diciamo che la dipendenza ha vari aspetti all'interno della vita dell'utente uno di questi aspetti è che spesso chi è affetto da dipendenza ha una grossa probabilità di avere malattie infettive il fatto di tenerli lontani dalla dipendenza attraverso i progetti di ricoltura sociale crea o almeno questa è stata la proxy che noi abbiamo voluto utilizzare per quantificarlo anche una minore probabilità che questi utenti abbiano malattie infettive o comunque siano esposti a malattie infettive per misurarla a livello economico sono stati utilizzati i dati presenti sul sito del CERD e dell'istituto di sanità che ci dicevano che la probabilità cioè che il numero di utenti del CERD che hanno malattie infettive sul numero totale di influenti del CERD è una certa probabilità che poi è stata moltiplicata al posto medio di ricovero per malattie infettive sempre ritrovato sul sito del sistema sanitario quindi non era un collegamento diretto tra pratiche di ricoltura sociale e minore probabilità di avere malattie infettive quanto la minore probabilità di avere malattie infettive è stato semplicemente lo strumento utilizzato per misurare il cambiamento derivante dalla pratica che era quello di una riduzione della probabilità di ricaduta nella dipendenza non so se questa prima risposta è stata chiara per il rischio sì sì chiara è chiaro che per farla puntualmente avrei avuto necessità forse anche di calcolare l'effettiva incidenza di malattie infettive nel caso di partecipanti di pratiche di agricoltura sociale per quanto riguarda invece il differenziale della borsa lavoro credo sia un ottimo spunto da verificare il futuro qui in questo studio non è stato valutato effettivamente la sua considerazione è molto corretta e sicuramente quel beneficio che abbiamo calcolato in questo modo non era strettamente collegato ad una borsa lavoro di agricoltura sociale rispetto ad una borsa lavoro di altri progetti e quindi sicuramente è uno spunto molto interessante che guarderemo in futuro grazie a lei se non ci sono altre altre domande io passerei alla seconda relazione poi è chiaro che nel tempo che ci rimane di discussione se intanto a qualcuno di voi venisse qualche idea qualche domanda aggiuntiva da fare insomma siamo sempre tutti collegati quindi si può eventualmente inserire quindi grazie ancora Francesco per la tua relazione e passerei invece la parola a Daniela Pavoncello che appunto presenta una relazione legata a un progetto di agricoltura sociale Farming for Health come opportunità appunto per l'inclusione sociale delle persone con disabilità e all'interno della sua relazione cosa interessante mette a confronto diversi strumenti valutativi che le diverse realtà agricole facenti parte del progetto hanno proprio utilizzato confrontando diciamo questi strumenti in maniera critica quindi facendo proprio un confronto vero e proprio Daniela a te la parola grazie grazie Roberta grazie Carla grazie a tutti per i ricchi veramente contributi che avete dato questa mattina che grazie Francesco anche che ha introdotto la sessione veramente molto interessante sarebbe veramente oggetto di approfondimento ho ascoltato tutte le relazioni con grande veramente con grande interesse provo a condividere lo schermo vediamo se ci riesco vediamo se so è diventata così brava ecco lo vedete lo vedete sì sì si vede si vede perfetto ok metto in presentazione ecco ecco allora io intanto vi porto i saluti della collega di Sabina Polidori che con la quale ho condiviso l'impostazione di questo nostro lavoro perché abbiamo voluto essenzialmente vedere vedere la correlazione che esiste tra un sistema di valutazione tra i modelli di valutazione messi in atto da parte delle aziende agricole che noi abbiamo analizzato approfondito nel progetto Farm for Health nel 2016 in collaborazione con il CREA e questi e il modello appunto di educazione di economia sociale e economia civile quindi partendo proprio dal partendo proprio da una premessa di contesto noi vorremmo partire da quanto già anticipato dal professor Di Iacobo sulla valutazione di impatti in agricoltura sociale e quali sono le parole chiave la valutazione dell'impatto delle attività di agricoltura sociale sono state realizzate nelle diverse realtà agricole e da enti del terzo settore analizzate nell'ambito della ricerca agricoltura sociale un laboratorio per l'inclusione sociale per le persone con disabilità e in particolare come anticipato anche da Roberta sono stati presi in esami diversi modelli di valutazione messi in atto dalle aziende agricole e dalle cooperative che hanno al proprio interno assunto persone con disabilità hanno la presenza di persone con disabilità quali sono le parole chiave che noi abbiamo riscontrato innanzitutto comunità esperienze territoriali comprogettazione persona reciprocità e rigeneratività queste parole chiare che ricordano frequentemente all'interno delle esperienze che abbiamo analizzato riportano a tre concetti strettamente collegate e interdisciplinare terzo settore aziende agricole ed enti territoriali questo è il modello di condivisione che supererò e che abbiamo voluto inserire per farvi vedere la complessità del sistema di valutazione social sanitario che è un progetto che è veramente di una proposta di un iter per la definizione di un modello condiviso nel secondo nel secondo welfare come vedete è estremamente complesso e variegato è estremamente interdisciplinare riguarda estremamente tutti i settori che riguardano tutti i settori socio-sanitari e che riguarda soprattutto un'attività di ricerca sociale applicata realizzata appunto nell'ambito di un processo decisionale e in maniera integrata con tutte le fasi di programmazione progettazione intervento avendo proprio lo scopo di riduzione della complessità decisionale ma di controllo verifica e di controllo verifica e di correzione soprattutto di quelli che potrebbero essere gli elementi che potrebbero essere discostanti rispetto agli obiettivi prefissati quindi è fondamentale accettare le conseguenze sia operative relative al rapporto tra decisori operatori e beneficiari delle azioni allora questo partendo quindi da questa complessità del sistema di valutazione per valutazione dell'impatto sociale negli enti del terzo settore si intende proprio la valutazione qualitativa e quantitativa sul breve medio e lungo periodo degli effetti delle attività svolte sulla comunità di riferimento rispetto all'obiettivo individuato relativamente all'agricoltura sociale altre attività di interesse generale che riguardano l'agricoltura sociale come vedete sono una miriade di attività una miriade di interventi così come previsti dalla 141 interventi interventi sociosanitari interventi prestazioni sanitarie educazione istruzione formazione e inserimento lavorativo eccetera ma quello che a noi interessava in particolare è valutare diciamo vedere come questo lavoro di agricoltura sociale abbia un impatto sociale come valore generativo di comunità all'interno degli enti del terzo settore delle aziende presenti sul territorio e sappiamo che il legislatore ha riconosciuto agli enti del terzo settore anche il valore sociale e non solo la funzione sociale e quindi anche la rilevanza della dimensione strumentale a che cosa serve per la comunità e quindi per i destinatari utenti a come a cui sono rivolte tutte le attività e a questo proposito è importante vedere quali sono state le linee guida per la realizzazione dei sistemi di valutazione dell'impatto sociale delle attività rivolte al terzo settore quindi le dimensioni a cui fanno riferimento non riguardano solo gli enti sociali ma si possono estendere anche le aziende agricole che riguardano anche le comunità agli utenti di servizi destinatari non mi dilungo rispetto alle dimensioni che possono riguardare appunto la valutazione ma quello che vorrei soffermarmi è su che cosa si aggiunge per gli utenti di servizi e per i destinatari all'attività in agricoltura sociale per noi è importante analizzare studiare approfondire la caratteristica ciò che distingue l'agricoltura sociale come altre attività cioè quella dimensione quella valutazione multidimensionale di processo di tipo dinamico interdisciplinare da realizzare con chi l'abbiamo visto prima con la Cristina da realizzarsi con le ase con gli enti territoriali con i medici psicologi sociologi tutte le figure che ruotano in questa che ruotano intorno all'agricoltura sociale che come abbiamo visto appunto è una miriade che si sviluppa su più competenze e anche nel terzo settore a identificare quindi a descrivere o predire la natura e l'entità dei problemi di salute di natura fisica psichica funzionali di una persona non autosufficiente e a caratterizzare le sue risorse e potenzialità quindi il progetto di Farm for Health agricoltura sociale come opportunità per l'inclusione ha riempiato una lettura attenta su quelli che erano su quelli che sono stati gli indicatori e gli scrittori per l'individuazione appunto di questi modelli di valutazione di buone pratiche per tra i possibili indicatori per il riconoscimento di un'esperienza positiva territoriale di inclusione e di accompagnamento sono stati individuati i seguenti elementi innanzitutto esperienze a noi interessava in particolare ci interessavano in particolare le esperienze di inserimento lavorativo di persone con disabilità cioè la presenza di progetti finalizzati all'inserimento lavorativo gli accordi con le aziende e gli antisettori esperienze di tirocinia di alternanza scuola lavoro il controllo delle ricadute del progetto in termini occupazionali in relazione al numero di inserimento post progetto presenza di incentivi per le aziende monitoraggio e valutazione nel lavoro di rete sul territorio la realizzazione di attività professionalizzanti come i laboratori la presenza di progetti individualizzati l'utilizzo di strumenti innovativi quello era un altro aspetto per esempio i dispositivi formativi le tecniche specifiche per l'analisi del potenziale la presenza di operatori sociali specializzati la collaborazione con strutture di ricerca e il coinvolgimento delle famiglie questi erano tutti gli indicatori e gli scrittori che ci hanno consentito di individuare le pratiche presenti sul territorio il progetto prevedeva diciamo l'ipotesi idealtipica di questo processo di questo processo di inserimento lavorativo che potesse tenere in considerazione che potesse tenere in considerazione le quattro dimensioni accoglienza orientamento formazione di tirocinio accompagnamento inserimento lavorativo ed infine la valutazione ma la valutazione doveva tenere in considerazione quattro dimensioni in particolare le pratiche gestionali gli esiti sugli utenti la realtà di impresa agricolente del terzo settore il sistema locale il territorio e la comunità come vedete è un sistema di valutazione piuttosto complesso che ci riporta appunto come ha anticipato come ha presentato in premessa Francesco riguarda una dimensione che che non riguarda appunto solo l'utente ma che riguarda appunto il territorio l'organizzazione le presenze strettamente che riguarda strettamente tutte quante le realtà tutte le realtà coinvolte nel processo quindi quali sono stati i risultati i risultati sono stati quelli di aver approfondito e di aver raccolto soprattutto attraverso delle visite equitate quelle quelle informazioni utili a sapere quali erano gli strumenti di valutazione che erano stati utilizzati dalle diverse realtà analizzate ad esempio conca d'oro diciamo che conca d'oro la fattoria su conca d'oro ha un sistema un processo di valutazione soprattutto orientato ai risultati dell'utente della persona con disabilità inserita all'interno del contesto e si è spiegato e hanno messo a punto una serie di strumenti operativi che concorrono appunto a definire le modalità di osservazione e presupposti per una progettazione personalizzata da realizzare all'interno di una fattoria sociale che accompagna appunto il giovane disabile nel suo personale percorso di vita diciamo che conca d'oro essendo collocata nella realtà nella regione veneto la regione veneto ha adottato il modello di scheda la svampi la scheda di valutazione multidisciplinare della disabilità e quindi tutti gli strumenti che sono stati utilizzati rientrano in questo schema di integrazione sociosanitaria lo svampi svampi è uno strumento metodologicamente valido e scientificamente riconosciuto a livello internazionale per la descrizione e valutazione della condizione disabilita la scheda è finalizzata per garantire omogeneità a tutti gli utenti nei criteri di valutazione per la presa in carica accesso ai servizi in generale per la definizione di risposte adeguate e bisogna le necessità assistenziali commisurate alla disponibilità delle risorse proprio in un'ottica di definizione dei progetti personali coerenti di valutazione multidimensionali e multiprofessionali e la specificità del modello di conca d'oro si basa soprattutto sulla valutazione degli elementi che caratterizza nel soggetto nella sua interazione con i fattori ambientali nella definizione di un progetto di intervento finalizzare a migliorare e a mantenere la qualità di vita del soggetto in un'ottica veramente ecologica di valorizzazione delle risorse già disponibili nel contesto di vita di sostenibilità di complessiva del sistema all'interno del suo volume le fattorie sociali potete trovare una variegata rappresentazione di questi strumenti di valutazione e di osservazione rivolti alla persona dove voi potete vedere che sono strumenti utilizzati non solo dagli operatori ma richiedono appunto un'osservazione da parte della famiglia e da parte anche delle strutture sanitarie è abbastanza è un sistema piuttosto complesso e variegato è uno strumento che ti consente sia in ex ante in ex post di valutare di verificare di monitorare soprattutto i risultati ottenuti i risultati ottenuti da questa osservazione consentiranno di inserire la persona disabile nei contesti lavorativi più aderbati alle sue capacità e alle sue capacità interessi e attività ecco ritorniamo anche noi sul capodarco viene anche abbiamo tenuto in considerazione anche il capodarco la valutazione viene svolta durante l'ingresso della persona disabile sia in fase ex ante che in itinere all'interno di questo progetto Viva Io che è un percorso veramente un percorso di transizione un laboratorio di transizione per l'inserimento lavorativo permetto che abbiamo raccolto tutti questi strumenti queste schede e quello che noi abbiamo riscontrato anche attraverso i colloqui che abbiamo fatto direttamente con gli utenti abbiamo visto la coerenza tra i risultati ottenuti attraverso la valutazione e i colloqui intercorsi con direttamente con i destinatari di questi di questi strumenti la valutazione diciamo a capodarco ha consistito prevalentemente in una sorta di osservazione sistematica e nei colloqui individuali il progetto prevede fondamentalmente un test di autovalutazione che i ragazzi autosufficienti compilano individualmente alla fine dell'anno e un test di valutazione degli apprendimenti delle competenze trasversali e relazionali puntualità igiene collaborazione eccetera e professionali riguardo alle attività e alle svolte i test sono ancora in fase di sperimentazione e un'altra esperienza particolarmente significativa ma rivolta a un particolare una particolare tipologia di target che riguarda i giovani con disturbo dell'espetto autistico soprattutto mirata anche secondo un modello diciamo cognitivo comportamentale è mirata soprattutto a stimolare le potenzialità le potenzialità individuali di questi di questi ragazzi secondo un modello educativo individualizzato proprio partendo da una valutazione pedagogica grazie al quale viene redatto un piano individuale riabilitativo dall'equipe del centro ogni giorno o quotidianamente diciamo che hanno una scheda di monitoraggio dove vengono annotati i risultati ottenuti dalle attività che vengono calendarizzate secondo il modello ABBA viene predisposta una scheda di valutazione ad hoc compilata dall'agricoltore o dall'operatore che è adeguatamente formato e metto che queste figure vengono adeguatamente formate per la somministrazione di questa scheda che accompagna il giovane in attività sulla base di questa osservazione delle attività acquisite i giovani vengono indirizzati in diverse mansioni all'interno delle diverse aziende agricole soprattutto appunto in relazione alle loro potenzialità e questi dati vengono raccolti durante tutte le fasi del progetto inoltre infine abbiamo questo delle agricole che è un'azienda agricola che si trova alla mezza terme e si avvale soprattutto di strumenti di valutazione che rispondono all'international classification functional e comunque questi strumenti sono ancora oggetto di sperimentazione e non vengono riconosciuti allora arriviamo alle conclusioni allora quello che possiamo dire è che l'immagine l'analisi territoriale ci ha restituito un'immagine di agricoltura molto sbariegata difficilissimo da descrivere in modo unitario uniforme e qui si richiede la necessità non di omologare di standardizzare ma di trovare degli strumenti che possono con sistematicità valutare appunto monitorare i processi diciamo di inserimento di questo stiamo parlando dei processi di inserimento lavorativo delle persone con disabilità pertanto è fondamentale predisporre e sperimentare e attivare un progetto di ricerca che consenta veramente di individuare appunto degli strumenti che possono essere utili e funzionali alla valutazione di questi aspetti l'azione valutativa su pratiche così gerogene risulta un'operazione piuttosto difficile se noi analizziamo le pratiche di agricoltura in una prospettiva di comunità si nota come queste abbiano sicuramente un impatto diffuso che va al di là dei singoli beneficiari e che riguarda anche la famiglia dell'utente il sistema locale costituito dalla pluralità degli stakeholders coinvolti il sistema di rete di riferimento il consumatore finale riguarda gli aspetti social sanitari questi dispongono un proprio impianto valutativo che risente maggiormente da un'impostazione di tipo sanitaria e che riguarda soprattutto una dotazione strumentale che ciascun operatore tende ad imporre questa strumentazione che è sicuramente valida in fase di diagnosi funzionale però che richiede una riflessione considerando che se la persona deve essere inserita all'interno di un contesto di un'azienda agricola devono essere considerati anche altri punti di vista purtroppo devo dire che l'agricoltura sociale nei contesti sociosanitari è vista come l'ultima spiaggia cosiddetta anche dagli operatori quindi non può essere la panacea risolutiva di tutte le difficoltà di inserimento ma deve essere puntualizzata ok deve essere puntualizzata studiata e analizzata in relazione veramente alle potenzialità e alla capacità della persona disabile che viene inserita all'interno del contesto da questo punto di vista l'analisi dei criteri delle modalità di invio fa comprendere appunto come questi siano il risultato di valutazione del tutto estemporaneo appunto come l'ultima spiaggia il servizio inviante ha spesso una conoscenza piuttosto vaga che si svolgono nel contesto rurale individuato pur essendo con della bontà delle esperienze quindi anche qui è fondamentale prevedere un collegamento è una formazione ad hoc interdisciplinare tra operatori sanitario operatori sociali e operatori agricoli solo in questo modo solo attraverso uno studio interdisciplinare è possibile realizzare un valido inserimento nel mondo un valido inserimento all'interno dell'azienda dell'azienda delle fattorie sociale allora per concludere per concludere quindi la fase di ingresso nella fattoria sociale solitamente destinata all'osservazione preliminare all'astituto del progetto personalizzato non appare assolutamente strutturata nella maggior parte dei casi dei progetti analizzati quindi risulta essere la conseguenza di un invio poco regionato e talvolta anche dalla mancanza di una profiliatura delle aziende agricole e terzo settore un altro aspetto riguarda la strutturazione del progetto personalizzato e l'individuazione di obiettivi mirati per il nuovo contesto di riferimento si assiste frequentemente ad una reiterazione degli obiettivi stereotipati dei sorgi da percorsi inclusivi precedenti in quanto le persone inserite hanno spesso una storia pluriannale di prese in carica e quindi gli operatori tendono a fare riferimento alla cartella sociale sociosanitaria e sanitaria già aperta ciascuna delle realtà selezionate come abbiamo visto è una sorta di unicum che storia contesto territoriale motivazione dei promotori sensibilità da parte dei responsabili dotazione di risorse capacità economiche capacità di rete sul territorio prospettive di sviluppo progettualità rete di contesto secondo il nostro punto di vista l'agricoltura abbraccia queste tre dimensioni benessere sociale sistemi di governance e sviluppo economico sostenibile dimensioni sulle quali non si può prescindere se vogliamo effettivamente valutare un impatto sociale positivo che riguarda tutti gli ambiti quindi non solo la persona ma il territorio l'economia e il sistema di governance questa è una breve bibliografia che abbiamo che vi restituiamo per eventuali approfondimenti il bene comune è la grande catena che lega insieme gli uomini e nella società quindi questo per concludere è l'obiettivo di un'economia generativa e rigenerativa e di comunità che bene si sposa con l'agricoltura sociale vi ringraziamo anche da parte appunto di Sabina Politova grazie per l'attenzione grazie Daniela grazie della tua presentazione io prima di chiedere appunto se ci sono domande vorrei porre l'attenzione su due aspetti che hai evidenziato e che appunto visto che non sono emersi nelle relazioni precedenti vorrei cogliere l'occasione perché penso personalmente che siano molto importanti quando si parla di pratiche di agricoltura sociale anche di valutazione di pratiche la prima cosa l'hai ben evidenziata durante diciamo la tua presentazione che è quella che di fronte chiaramente a una variabilità di strumenti legati alla valutazione diventa importante formare formare coloro che fanno e svolgono un'attività di monitoraggio che quindi raccolgono questi dati tu parlavi di schede che vengono diciamo in parte riempite direttamente dall'utente in parte dalle aziende in parte dagli stessi operatori quindi è chiaro che l'aspetto formativo diventa un aspetto fondamentale perché nessuno diciamo nasce sempre imparato nel fare e nell'eseguire un processo di valutazione quindi questa cosa siccome anch'io più volte in progettualità di agricoltura sociale che ho seguito è stato un punto debole del processo valutativo cioè la base di partenza la formazione di chi poi tutti questi strumenti valutativi li deve utilizzare per rendere comparabili i risultati la valutazione fondamentale un altro elemento che invece hai sottolineato nella parte finale della tua relazione è quello del progetto personalizzato dove tu chiaramente fai dici poca attenzione al progetto individualizzato allora io penso che questa attività che poi è un'attività da un lato di mapping e dall'altro anche di scouting quindi di mettere proprio insieme quelle che sono le caratteristiche del mondo agricolo e i bisogni provenienti dall'utente sia uno degli elementi sui quali ancora almeno anche qui parlo per esperienza per progettualità che sto seguendo uno degli aspetti sui quali varrebbe la pena investire un pochino di più per come dire fare un'attività di scouting e di matching che sia veramente utile poi alla persona che viene ad essere inserita quindi ti ringrazio per questi due elementi diciamo che hai sottolineato anche se la tua relazione è ricca di tanti spunti però questi due aspetti insomma ci tenevo a sottolinearli grazie ora chiedo soltanto chiedere che come INAP insieme sempre con il CREAS stiamo avviando un progetto di ricerca proprio a far riguardo sull'applicazione del budget di salute in agricoltura sociale laddove appunto si richiede la definizione di progetti personalizzati ma non solo per le persone con disabilità ma per tutte le tipologie di utenti che accedano all'agricoltura sociale di cui parleremo in seguito grazie 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 Daniela chiedo ai colleghi se ci sono domande se non ci sono richieste di domande chiarimenti forse passiamo sempre con la stessa logica se poi qualcosa vi viene in mente si può recuperare passiamo all'ultima relazione della mattina chiederei quindi a Laura con Talbrigo di presentarsi allora la relazione fattorie sociali che erogano interventi assistiti con gli animali nella regione Veneto teorizzazione di un sistema di valutazione delle pratiche sul territorio in un'ottica di one welfare anche per questo intervento ringrazio molto Laura perché appunto porta alla discussione un tema quello degli interventi assistiti sui quali ancora diciamo c'è molto poco quantomeno con riferimento alla parte dell'agricoltura sociale quindi lei ci presenterà una relazione nel quale appunto presenta alcuni primi risultati di uno strumento metodologico di valutazione quindi siamo ancora in una fase diciamo iniziale di ricerca in cui appunto si cerca di utilizzare uno strumento che è già diffuso in ambito socio-sanitario di applicarlo al tema dell'agricoltura sociale testandolo su una serie di fattorie appunto sociali del territorio Veneto vi ricordo che appunto il territorio quello di ancora meglio Laura Veneto ha un suo prima albo regionale delle fattorie sociali e appunto all'interno di questo albo sono stati sono presenti una serie appunto di realtà agricole che stanno sviluppando interventi assistiti con animali quindi ringrazio Laura e a te la parola grazie mille Roberta sì noi siamo in una fase veramente preliminare del percorso che abbiamo intrapreso e siamo tra l'altro un gruppo di ricerca che si sta occupando da pochissimo di queste tematiche lo sottolineo perché mi rendo conto che ho a che fare con un gruppo di persone che hanno un background e un'esperienza notevole nel settore e noi siamo entrati da pochissimo grazie poi tra l'altro voglio sottolinearlo proprio a Roberta Moruzzo e al professor Diaco perché abbiamo nel nostro gruppo il nostro team di ricerca la dottoressa Morgana Galardi che ha un dottorato proprio nell'ambito dello sviluppo di modelli organizzativi innovativi in agricoltura sociale e dunque vi condivido intanto la mia presentazione vediamo se riusciamo ok la vedete? sì sì Laura va bene ok perfetto e dunque due parole giusto per farvi capire in che contesto nasce questo progetto di questo progetto di ricerca io lavoro presso un centro di referenza nazionale che è quello per gli interventi assistiti con gli animali quindi noi nasciamo con un decreto ministeriale nel 2009 e siamo allocati all'interno di un istituto zoo profilattico quindi il mio background è come medico veterinario e sostanzialmente il compito principale che ovviamente rientra poi in quella che è la mission complessiva del nostro ente che è quella di tutelare la salute animale la sicurezza alimentare il benessere animale è quella di intraprendere una serie di attività di ricerca che sono legate sicuramente al benessere e alla sanità degli animali coinvolti negli interventi assistiti però quello che ci viene richiesto è anche visto il settore molto particolare anche di favorirne la crescita e lo sviluppo sul territorio nazionale e sostanzialmente quindi in quest'ottica dal 2019 il centro di referenza si sta interessando anche all'ambito dell'agricoltura sociale grazie poi anche all'inquadramento normativo che è stato dato al settore dalla 141 e dal successivo decreto ministeriale che già è stato citato la strategia nostra è quella di aderire ad una cornice teorica che è proprio quella del One Welfare infatti diciamo gli interventi assistiti con gli animali trovano una chiara collocazione all'interno di questo framework e che ovviamente è molto ampio e che abbraccia anche altri aspetti di quello che è definito Green Care ovviamente il One Welfare non è altro che l'ampliamento e la realizzazione di un concetto chiave che è One Health e che appunto è nato negli anni Ottanta e One Welfare ne è sostanzialmente l'evoluzione che è partita che si è sviluppata a partire dal 2015 diciamo che la cornice teorica che si articola appunto in queste cinque aree tematiche mette in evidenza la stretta interconnessione esistente tra il benessere degli animali il benessere dell'uomo e ovviamente anche quello degli ecosistemi e questo mette in luce come una prospettiva di natura socio-ecologica sia quella che oggi potrebbe essere effettivamente percorribile per mettere a punto di modelli nuovi di welfare e che nascono poi tra l'altro da una forte collaborazione tra diversi settori e da una notevole multidisciplinarietà e appunto all'interno di quest'ottica si collocano perfettamente gli interventi assistiti con gli animali ora l'Italia è l'unica realtà che ha a livello europeo ma anche a livello mondiale sostanzialmente è l'unica realtà che ha regolamentato con un accordo stato-regioni il settore degli interventi assistiti questo accordo è stato siglato nel 2015 è stato recepito da tutte le regioni italiane e ha definito diciamo veramente definito i vari ambiti di intervento li ha classificati in terapia assistita con gli animali educazione assistita con gli animali e attività assistita con gli animali ha identificato le figure professionali previste dall'equipe multidisciplinare e inoltre ha anche ben definito quali sono le responsabilità e le competenze che ciascuna di queste figure deve possedere per poter erogare il servizio gli interventi assistiti quindi si caratterizzano proprio nel nostro paese per una spiccata multidisciplinarietà che dovrebbe garantire tra l'altro un approccio che porta ad un beneficio che non è diretto solo al paziente utente ma anche all'animale e che dovrebbe avere una ricaduta positiva su tutto il contesto cioè quello che viene valorizzato all'interno delle linee guida per gli interventi assistiti con gli animali è un approccio di tipo ecosistemico quindi tutto ciò trova la sua naturale collocazione anche nell'ambito dell'agricoltura sociale chiaramente perché ovviamente le fattorie sociali proprio grazie alla presenza degli animali che comunque sono elementi spesso chiave sia a livello produttivo che relazionale e ovviamente la presenza del contesto naturale fa sì che gli interventi assistiti abbiano cominciato ad inserirsi sempre più anche in questo contesto tutto ciò tra l'altro vi sottolineo è stato almeno dalla percezione che abbiamo avuto come centro di referenza grazie alle nostre relazioni insomma con gli operatori di settore è stato ulteriormente accentuato dalla pandemia e quindi questa necessità di incentivare la resilienza degli individui la resilienza delle comunità trova nel contesto dell'agricoltura sociale e in particolare di realtà almeno in Veneto che erogano IAA trova veramente un contesto di naturale crescita e sviluppo ovviamente noi abbiamo in Veneto ovviamente abbiamo poi una legge regionale che come aveva già anticipato Roberta ci pone una serie di problematiche collegate al fatto di riuscire veramente a integrare interventi assistiti agricoltura sociale e servizi sociosanitari perché effettivamente la legge 141 del 2015 già sollecita la collaborazione tra i servizi sociosanitari e gli enti pubblici competenti per il territorio e le fattorie sociali il decreto ministeriale riprende questo concetto e tra l'altro cita apertamente le linee guida per gli interventi assistiti quando fa riferimento alla possibilità di erogare prestazioni e servizi che supportano terapie mediche psicologiche e riabilitative però in Veneto abbiamo un problema non indifferente che non è tanto la legge regionale del 2013 che è una legge che ci ha permesso che ha permesso di istituire un vero e proprio elenco e che l'elenco prende vita anche attraverso l'istituto della conferenza di servizi tra l'altro il centro di referenza è parte dei membri della conferenza dei servizi che verifica la presenza di una serie di requisiti in capo al richiedente per erogare i servizi per i quali richiede l'iscrizione la legge regionale tra l'altro aveva già nel 2013 inserito gli interventi assistiti all'interno dei servizi erogabili sia con una connotazione riabilitativa quindi terapia educazione sia con una connotazione di natura ludico ricreativa cioè come attività assistita e già questa legge prevede che ci sia ipoteticamente un coinvolgimento delle fattorie sociali nella programmazione dei piani di zona dei servizi sociosanitari però abbiamo un problema legato alla necessità di adeguare un'altra legge regionale che è una legge che è la legge 22 del 2002 che riguarda invece l'attuazione e l'accreditamento delle strutture sanitarie sociosanitarie e sociali e questa legge pone un enorme limite alla possibilità delle aziende sanitarie di istituire poi creare convenzioni effettive con le fattorie sociali e quindi si pone la necessità di creare una vera e propria nuova unità d'offerta sociosanitaria che permetta alle aziende sanitarie di ovviamente stipulare convenzioni per l'erogazione di tutta questa serie di interventi che possono essere di supporto alle terapie mediche psicologiche o riabilitative ora in questo contesto normativo si innesta la riflessione che abbiamo iniziato a fare con la regione in quanto si pone il problema di mettere appunto degli strumenti che siano effettivamente in grado di permettere una valutazione della qualità dei servizi erogati dalle fattorie sociali sul territorio in particolare quelle ovviamente quelle presenti nell'elenco regionale e soprattutto per gli ambiti inerenti gli interventi assistiti perché al di là della rispondenza la stretta rispondenza a quelli che sono i requisiti normativi per effettuare quella che è una valutazione sullo standard qualitativo del servizio erogato le aziende sanitarie devono fare anche delle valutazioni in rapporto ai costi che vengono sostenuti quindi la scelta stessa di acquisizione di un servizio dovrebbe essere indirizzata verso quelle realtà che sono in grado di sostanzialmente garantire anche la maggiore efficienza possibile nella gestione della risorsa economica senza però andare ad intaccare la produzione di valore per l'utenza quindi in quest'ottica si è aperta la nostra riflessione che ha preso innanzitutto in considerazione quelli che sono gli strumenti che generalmente vengono utilizzati in ambito sociosanitario per la valutazione della qualità dei servizi cioè il modello classico è quello che vedete qui nella slide e quindi il fatto delle quattro componenti risorse processo output e outcome ovvero i risultati che si ottengono sulla popolazione target quindi qui abbiamo delle valutazioni che sono delle valutazioni multi criteri individuiamo delle dimensioni dei criteri e degli indicatori e tuttavia questo modello ha diciamo un limite che non è molto flessibile cioè e inoltre nella valutazione del servizio alla persona questo modello ha un limite legato proprio al fatto che l'azienda agricola deve produrre valore che sia sostenibile perché è anche una realtà produttiva che deve vivere in stretta interconnessione con il suo territorio e questo significa che l'azienda agricola deve sostanzialmente essere in grado di non solo fornire valore migliorando le proprie performance sostanzialmente ma innestarsi all'interno di un ecosistema che è quello in cui effettivamente opera rispondendo a quelle che sono le necessità del territorio e quanto bene risponda a queste necessità dovrebbe essere ovviamente misurato inoltre è fortemente condizionata da tutte quelle che sono le condizioni sociali economiche ambientali che può trovare in quel territorio e che ovviamente limitano la sua capacità di sussistenza e quindi noi abbiamo cercato di capire effettivamente quali strumenti di valutazione potessero essere più evoluti rispetto a questo e potessero essere applicabili anche ad una prospettiva che è più olistica che è adattativa che tiene conto quindi del contesto che tiene conto dell'evoluzione e delle dinamiche che si possono creare all'interno dell'azienda dell'azienda stessa e del rapporto dell'azienda con il territorio e con gli stakeholder nel senso più ampio cercando anche di inglobare una componente di co-creatività quindi questo aspetto tutti questi aspetti sono stati indagati cercando di andare appunto a studiare quelli che sono i vari modelli che erano presenti in letteratura per quanto riguarda la valutazione di servizi alla persona in ambito sanitario e sociosanitario ovviamente noi siamo arrivati al momento semplicemente ad identificare delle dimensioni e delle possibili aree di valutazione mentre tutto quello che riguarda gli strumenti di valutazione i criteri verranno messi a punto in un secondo momento abbiamo cercato di integrare quindi il modello un modello che abbiamo scelto tra quelli presenti in letteratura con poi quella che è tutta la cornice teorica del one welfare dal punto di vista metodologico abbiamo fatto un'analisi della letteratura basandoci principalmente su abbiamo considerato review e review sistematiche abbiamo escluso la letteratura che faceva riferimento specifico alle norme ISO perché sostanzialmente lo consideriamo come un criterio che va a supporto di un sistema di valutazione del servizio ma non come un elemento esclusivo e da qui poi una volta che abbiamo individuato il modello abbiamo sfruttato da un lato il supporto di Coldiretti nella realizzazione di due focus group che erano stati in realtà messi a punto per avere un inquadramento della situazione in Veneto e per approfondire soprattutto aspetti collegati ai modelli organizzativi esistenti e da lì però abbiamo poi avuto moltissimi input anche per quanto riguarda la parte legata allo sviluppo di un modello di valutazione dalle informazioni raccolte anche attraverso il focus group abbiamo poi strutturato una survey come un questionario pilota sostanzialmente che era costituita prevalentemente da domande aperte per raccogliere tutta una serie di dati esplorativi circa la possibilità effettivamente di utilizzare le dimensioni che avevamo identificato come strumenti di valutazione per diciamo che le dimensioni individuate fossero quelle che effettivamente poi dovrebbero essere valutate ora dall'analisi della letteratura noi avevamo individuato questi modelli prevalenti e da questi abbiamo derivato il modello EFQM che ci è sembrato quello che diciamo aveva il livello di plasticità necessaria a potersi veramente adattare al contesto perché delle fattorie sociali perché ha una plasticità che permette di essere utilizzato in contesti che non producono solo beni ma che producono anche servizi alla persona si caratterizza per la sua circolarità che è produttiva e anche per questo aspetto co-creativo perché alla fine è vero che nel contesto dell'agricoltura sociale noi abbiamo spesso la coesistenza di consumatori e di utenti di servizio abbiamo queste figure che potrebbero diventare dei veri propri prosumer e quindi diciamo che questo modello era quello che offriva sostanzialmente quel livello di circolarità che ci sembrava meglio adattabile proprio al contesto sappiamo che questo tipo di modello sostanzialmente si basa su tre domande fondamentali a cui il provider o comunque l'azienda deve rispondere che gli obiettivi per cui l'obiettivo dell'azienda cioè perché essa esiste e questo è l'elemento di direzione poi come gli obiettivi vengono perseguiti e quindi la fase di attuazione e cosa è stato raggiunto e che cosa si vuole raggiungere in futuro quindi una volta definito questo modello poi con i focus group che tra l'altro ha coinvolto un campione molto limitato che c'è stato dato che c'è stato individuato da Pol Diretti per due province perché poi bisogna tener conto anche delle non so come sia nelle altre regioni però almeno in regione Veneto c'è anche una forte differenza di tessuto sociale tra provincia e provincia e quindi abbiamo individuato delle aziende che erano collocate nella provincia di Padova e nella provincia di Vicenza e queste dieci aziende ovviamente erano non tutte ancora iscritte all'elenco ma tutte comunque avevano fatto il percorso formativo ad hoc ed erano interessate all'iscrizione nell'elenco queste aziende si definiscono tutte aziende multifunzionali e la loro principale attività è varia quello che noi interessava è che erogassero interventi assistiti oppure che comunque anche se non erogano interventi assistiti perché poi di fatto in alcune realtà non non c'è una vera e propria equip multidisciplinare ma sono presenti animali che comunque interagiscono con l'utenza ma senza delle finalità precise ecco queste realtà sostanzialmente una volta coinvolte nel focus ci hanno anche ci hanno permesso sostanzialmente di mettere in luce quelle che poi sono gli elementi che sono stati innestati sulle tre dimensioni delle FQM e del One Welfare ovvero quindi la dimensione ambientale la dimensione animale e quella umana per permettere poi la valutazione complessiva della qualità del servizio abbiamo quindi individuato sostanzialmente nove aree di valutazione che rientrano sostanzialmente in questo quadro una sicuramente è data dal rapporto col territorio e comprende l'integrazione con l'ecosistema esistente da parte delle aziende la gestione delle risorse quindi l'adesione a modelli di economia circolare poi la risposta la capacità poi di rispondere ai fabbisogni del territorio e quindi l'interazione con i servizi sanitario sociosanitari o con gli enti pubblici o enti privati presenti sul territorio sicuramente poi abbiamo considerato le caratteristiche delle strutture la sicurezza e questo è un punto estremamente critico poi vi spieghiamo perché sicurezza del contesto operativo inteso per utenti erogatori del servizio e per gli animali gli aspetti legati alla gestione degli animali e tutti quegli aspetti che sono invece rientrano nel monitoraggio dei progetti di interventi assistiti nel nostro caso specifico ma in genere può essere il monitoraggio che viene garantito di quelle che sono i servizi erogati infine consideriamo anche come elemento di valutazione il modello organizzativo e gli elementi che vanno a definire la qualità del servizio offerto nel caso specifico noi ci siamo sfocalizzati sul fatto che le aziende avessero o meno delle forme di certificazione è ovvio che poi ognuna delle aree che sono state identificate andranno successivamente strutturate con i tre elementi costitutivi delle FQM cioè l'approccio la realizzazione e la valutazione e miglioramento e ovviamente con tutti poi quelli che sono gli attributi che vengono associati a direzione attuazione e risultati ecco quindi il lavoro è proprio in fase preliminare ora nell'identificazione almeno di quelli che sono i punti da valutare ora i dati qualitativi che abbiamo raccolto dai focus e poi anche dal questionario che ne è derivato ci hanno messo in luce sicuramente quindi l'importanza e il ruolo che va dato a tutto quello che sono le strategie di integrazione dell'azienda nell'ecosistema del territorio il fatto che queste aziende pongono estrema attenzione ai modelli di economia circolare e tutto ciò deriva da una forte sensibilità e propensione dei titolari delle aziende a questo aspetto poi abbiamo rilevato inoltre che danno un'enorme attenzione a tutti gli aspetti volti a garantire il benessere degli animali e c'è una notevole propensione e attenzione anche alla salute degli animali e anche se queste realtà poi non erogano interventi assistiti e tutti questi elementi sono elementi che hanno poi ricaduto a pioggia positiva sulla qualità di quello che è il servizio erogato poi sicuramente dal punto di vista strutturale queste aziende fanno investimenti fanno investimenti sui servizi di accoglienza per le persone e non hanno però forme di certificazione di qualità cioè non hanno aderito a forme di certificazione di qualità norma ISO 9000 della serie ISO 9000 e per quanto riguarda poi la sicurezza diciamo che quelle che sono iscritte rispettano i requisiti del decreto legislativo 81-2008 rispondono perfettamente ai requisiti di legge non ci sono requisiti aggiuntivi per quanto riguarda la sicurezza degli utenti rispetto ai requisiti previsti dal decreto legislativo 81 allora l'elemento della sicurezza è emerso come un elemento molto critico perché ovviamente resta un punto chiave per le aziende sanitarie nel momento in cui vanno ad stipulare una convenzione relativa con queste realtà presenti sul territorio la sicurezza dell'utente è focale e effettivamente resta un elemento che necessita di essere meglio indagato e approfondito perché comunque il sistema che prevede la regione Veneto è che in sede di conferenza i vari servizi che vengono coinvolti sostanzialmente vanno a verificare che ci sia una stretta rispondenza al requisito di legge ma è una verifica sostanzialmente formale più che sostanziale e questo è un elemento critico molto rilevante poi abbiamo aspetti legati invece alla sostenibilità ambientale all'integrazione con l'ecosistema e alla gestione del benessere animale che sono veramente parte integrante di queste strategie aziendali e che dovrebbero essere maggiormente valorizzate poi nel momento in cui si va a fare una valutazione complessiva dell'azienda altro elemento di criticità che è stato rilevato ma che è già stato presentato anche dalle relazioni precedenti quindi vedo che non è una cosa solo del Veneto ma è una cosa presente anche in altre regioni anche da noi le aziende hanno grosse difficoltà a rispondere ai fabbisogni del territorio anche perché c'è una mancanza di dialogo con i servizi sanitari e sociosanitari questa mancanza di dialogo si ripercuote poi anche nella loro capacità di rispondere di capire quali sono i fabbisogni e di offrire dei servizi che siano effettivamente funzionali e quindi è un elemento chiave che anche attraverso lo sviluppo di questo modello di valutazione vorremmo riuscire a superare il fatto che come si diceva anche questa mattina nelle relazioni precedenti tutto dipenda dal funzionario dell'azienda sanitaria nello specifico che ha la sensibilità necessaria per poter capire che quel tipo di servizio può essere un'opportunità non è ammissibile in un sistema sanitario nazionale che dovrebbe avere una vision volta a offrire all'utenza un valore che effettivamente deve essere anche economicamente sostenibile se queste realtà possono offrire dei servizi che obiettivamente aiutano anche a migliorare la gestione della spesa sanitaria dovrebbe la cosa dovrebbe essere messa a sistema e valorizzata il più possibile soprattutto vista la situazione economica attuale ora nella scusate in conclusione noi vorremmo portare avanti la riflessione sull'fqm come possibile modello per lo sviluppo di uno schema di valutazione proprio delle attività svolte dalle fattorie sociali e vorremmo provare a applicare quindi la valutazione su queste sette aree declinandole poi in approccio realizzazione valutazione miglioramento e soprattutto vorremmo riuscire a fare in modo che il modello così come impostato ci permetta di creare un qualcosa che sia dal punto di vista della valutazione sostenibile per le aziende cioè non focalizzarsi su quello che si fa come si fa generalmente in sanità ci focalizziamo su un modello standard teorico di eccellenza ma cerchiamo di basare la nostra valutazione su il meglio possibile rispetto al contesto e alle risorse che ci sono a disposizione io vi ringrazio per l'attenzione lì avete il mio indirizzo e-mail e i miei contatti grazie grazie Laura della tua presentazione io volevo semplicemente anche questo penso sia una relazione ricca di spunti di riflessione anche perché come già tu dicevi insomma il tema degli interventi assistiti all'interno dell'agricoltura sociale è una possibilità per le imprese agricole ecco quello che volevo sottolineare sul modello che tu hai proposto che chiaramente voi state facendo una sperimentazione su di un territorio che è quello della tua regione è chiaro che se noi come dire mentre tu lo presentavi stavo pensando alla variabilità del sistema agricolo a livello nazionale probabilmente su alcune cose potremmo avere delle difficoltà se come dire spostato in altri contesti territoriali quindi forse potrebbe valere la pena come dire un testaggio per poi anche capire visto che nella vostra diciamo ricerca è coinvolta anche una delle organizzazioni professionali agricole ora voi immagino abbiate contatto con quelle del territorio però potrebbe come dire essere l'opportunità di coinvolgere questa organizzazione anche a più ampio respiro quindi a livello magari nazionale e capire insieme a loro se questo diciamo modello esteso alle fattorie appunto sociali del territorio alle aziende agricole del territorio potrebbe essere adattabile a seconda delle caratteristiche delle esigenze che esistono nei diversi contesti territoriali sì sicuramente questo per il ruolo Laura immagino che voi come centro di recensione abbiate chiaramente a livello nazionale sì noi ci siamo focalizzati sul Veneto ma soprattutto perché come istituto zooprofilattico abbiamo un territorio di competenza che è quello del Triveneto quindi Veneto Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige e quindi tra l'altro appunto essendo membri della conferenza dei servizi è stato naturale incanalarsi a focalizzare la nostra attenzione sulla regione Veneto però sicuramente c'è l'opportunità di provare a testarlo su altre realtà e magari anche arrivare a modularlo in funzione delle realtà di altre realtà e di tessuti socio-economici diversi perché ovviamente quello che c'è in Veneto non lo troviamo in Toscana e non lo troviamo in Sicilia e quindi capire fino a che livello di plasticità possiamo arrivare sul modello sarebbe sicuramente una prospettiva molto interessante e molto utile anche questo anche per noi come centro di referenza poi teniamo conto che sì stiamo muovendo i primi passi in questo settore quindi stiamo anche cercando di prendere le misure come si dice e capire ti ringrazio ti ringrazio e chiedo appunto se ci sono domande tra gli altri partecipanti nessuna domanda specifica su questo intervento allora se non ce ne sono almeno al momento poi magari qualcosa viene in mente chiederei appunto a Francesco così come ci eravamo detti in fase di apertura se vuole come dire provare a lanciare qualche osservazione qualche riflessione di carattere generale una volta che appunto sono state ormai presentate tutte le relazioni di oggi Francesco lascio la parola a te grazie Roberta ma poche osservazioni di sintesi per quello che ho raccolto in una giornata che sicuramente ha presentato molte relazioni interessanti ha aperto molti spunti di riflessione la prima è che abbiamo avuto sei relazioni e quasi tutte sono molto in divenire e quindi abbiamo necessità e abbiamo interesse ad andare avanti e capire poi quali saranno gli esiti effettivi di queste valutazioni in termini di risultati finali l'altro elemento che ha uscito scusa Francesco puoi parlare con un po' più forte che si sente un po' basso l'audio grazie scusa lo alzo un po' l'avevo abbastato prima l'altro elemento è come emerso dalla presentazione i target differenti quindi in alcuni casi si è parlato più prettamente di inclusione sociale abbiamo affrontato il tema dei migranti degli anziani delle disabilità delle tossiche condipendenze e poi in ultimo come dire su un sistema più generale ma che poi parte e prende spunto dalle pratiche di interventi assistite con animali e quindi già questo chiaramente ha generato necessariamente una molteplicità di approcci e di strumenti da una parte in alcuni casi è ancora presente molto il ricercatore classico in cui i portatori di pratiche sono dei recipienti rispetto all'azione di valutazione altri casi in cui il ricercatore più partecipante a volte tanto partecipante tanto da prefiggerse la situazione per il futuro però ecco al di là della battuta dove i portatori di pratiche acquisiscono un ruolo più attento e più attivo l'altra cosa sui metodi del lavoro utilizzati nelle valutazioni alcuni erano studi di caso quello lo svoio i fami sulle stesse disabilità sugli utenti quello sugli anziani è un po' più di sistema quello che ha presentato Chiara per quanto riguarda la situazione di Gio Umbro o anche questo ultimo sul sul vento quindi anche questo come dire restituisce variabilità anche nei metodi perché come dire dalla valutazione di impatto socio-economico lo sroi alla comprensione della modellizzazione nel caso dei migranti e così via l'altra cosa è che emerge abbastanza evidente l'opportunità la volontà la voglia di dare risposta a politiche in più casi quindi che io fanno o se dice l'uno delle marche o le politiche sociali o la risposta alla comprensione dell'applicabilità di normative nel caso del veneto mediata bisogno di riconoscenza più generale quindi talvolta proprio la fame di sapere o di cercare di capire meglio questa macchina dell'agricoltura sociale in che direzione ci porta forse quella che più rispecchia l'uso della valutazione come elemento di promozione di innovazione è quello del GO dell'Umbria ma senza dare scale di merito lì risponde appunto alla stessa natura del gruppo operativo che ha necessità di facilitare appunto l'innovazione e di conseguenza predispone di fatto un'arena di soggetti che a diverso titolo devono possono e devono essere interpellati coinvolti quindi è chiaro che lì si chiede conto anche degli esiti in maniera più diretta c'è un tranello possibile che vedo e che come dire pongo anche alla vostra attenzione è che a volte rischiamo di guardare le cose che ci piacciono le cose che ci sembrano rilevanti ma non necessariamente tutte quelle che entrano in ballo nei progetti che è una cosa che accade può accadere facilmente e soprattutto in un tema tanto complesso quanto quello che ci troviamo ad esaminare e su questo forse il richiamo ai portatori di interesse nel disegno valutativo alla loro partecipazione attiva può essere utile proprio per tenere conto di tanti aspetti anche quelli che immediatamente non ci sembrano rilevanti e che invece poi di fatto per le pratiche i portatori di pratiche per il tema in generale possono averla come rilevanza l'altro aspetto è quello della multidisciplinarità che chiaramente fa selezione rispetto anche alle pratiche valutative perché se sono monodisciplinare come competenze in ingresso rischio di uscire monodisciplinare come esiti e come approcci metodologici questo purtroppo però è subordinato molto alla possibilità di riuscire a trovare visioni convergenti tra ricercatori che spesso praticano campi molto distanti di nuovo il caso dell'università di Perugia è quando Chiara ci rappresentava il gruppo di donne e gruppo di donne di discipline differenti che possono fare la differenza nell'impostare un processo di valutazione però ecco questo talvolta si creano le condizioni utili perché questo avvenga non sempre le stesse circostanze si realizzano poi qualche osservazione più in generale e quindi valutare ma per chi perché se effettivamente la valutazione a volte risponde alle politiche forse questo legame deve essere reso più netto più evidente più incisivo perché poi abbiamo necessità di restituire i risultati in maniera altrettanto diretta e quindi ci pone anche il tema della valutazione della comunicazione rispetto a IESI che è chiaro che siamo in una sede di un convegno dell'Associazione Italiana di Valutazione e quindi come dire in questo momento la restituzione è a un pubblico più vicino più esperto rispetto a questi temi però se valutiamo anche in risposta a politiche a portatori di interesse a processi è chiaro che la necessità di rendere Roberta tirava in ballo il tema della predicabilità e della trasferibilità degli strumenti di valutazione e questo è uno ma anche come dire la capacità di restituire in maniera chiara evidente e utile gli esiti questa è una preoccupazione che forse dobbiamo porci è emerso un altro aspetto che è quello della difficoltà dei sistemi locali lo ha detto lo hanno detto chiaramente soprattutto chi sta lavorando nei sistemi locali e come dire qui la domanda è se la valutazione può aiutare da questo punto di vista l'impressione è che che viene restituita da coloro che hanno alcuni di coloro che hanno presentato è che di fatto manca una cultura dell'innovazione soprattutto nelle istituzioni e quindi ci stiamo affidando ad un circuito che è stato stimolato anche dagli innovatori che in qualche modo hanno attivato nel tempo e sono stati capaci di attivare nel tempo politiche che oggi vanno in attuazione queste politiche si sono tradotte in strumenti più o meno chiari ed evidenti quindi quelle del piano di sviluppo rurale o altri strumenti che rientrano all'interno delle pratiche che noi in qualche modo stiamo valutando perché poi molte pratiche di quelle che analizzate sono pratiche che tradizionalmente o di recente stanno ricevendo supporti dal punto di vista delle politiche questo genere degli apprendimenti che vanno a rafforzare sia gli innovatori sia a restituire informazioni a coloro che quelle politiche le hanno o dovrebbero restituire informazioni a coloro che quelle politiche le hanno generate però ecco siamo un po' dentro questo circuito e dentro questo guado che forse dovremmo comprendere analizzare e valutare nel momento in cui impostiamo i nostri processi valutativi che risponde appunto alla prima domanda di questa slide per chi stiamo valutando per chi stiamo facendo la valutazione e effettivamente stiamo aiutando consolidando gli innovatori le politiche nell'avere quelle risposte che sono utili mano a mano che le pratiche di agricoltura sociale vanno avanti e si diffondono e per questo come dire le mie osservazioni e le mie valutazioni però chiaramente parziali lascio a voi altri spunti sicuramente migliori di quelle che ho fatto io grazie Francesco c'è qualcuno che vuole intervenire poi volevo dire una cosa anch'io però insomma prima volevo capire se c'era qualcuno che voleva aggiungere qualcosa rispetto alle diciamo alle riflessioni che faceva Francesco io pure volevo dopo posso sì allora Daniela e poi non so chi si è prenotata perché non vedo le mani alzate Francesca Francesca ok Francesca prima Francesca allora prima Francesca vai Francesca fa lo stesso grazie no intanto grazie a tutti gli intervenuti perché veramente è stata una mattinata ricca con tantissimi spunti e prospettive condivido anche alcune delle questioni sollevate che sono ancora da come dire oggetto di discussione no gli approcci le discipline da coniugare da intersecare per avere anche delle visioni più complesse e complessive e del di ciò di cui stiamo parlando e stiamo parlando appunto di cose tanto diverse fra loro no anche i casi si sono focalizzati su approcci e come dire interpretazioni dell'agricoltura sociale tanto differenti quindi è difficile volevo riprendere uno spunto che è venuto fuori forse in più di qualche intervento che è quello della come dire comparabilità perché da un lato siamo tutti un po' alla ricerca di percorsi che ci permettano di poter valutare o analizzare in maniera approfondita anche pratiche differenti quindi in qualche modo dei modelli degli approcci valutativi ma dall'altro ci concentriamo tutti soltanto sull'agricoltura sociale quindi la cosa che forse Francesco ad un certo punto diceva rispetto alla alla borsa di studio no vedere come poi la borsa di studio in agricoltura sociale è diversa da quella fatta in un ufficio in un negozio di calzature non lo so no in un altro contesto ecco questo sarebbe molto importante mi rendo conto che è difficile perché di nuovo dovremmo andare forse a focalizzare solo su uno strumento quindi questo cosa è il caso la borsa lavoro e provare ad analizzare per una volta gli effetti non dico arrivare agli impatti ma quantomeno gli effetti di una borsa lavoro che è stata svolta costruita pensata svolta e analizzata in agricoltura sociale e in un altro contesto ma così come tante di quelle attività laboratoriali che sono per alcuni versi considerabili come terapia occupazionale cioè fare l'agricoltura su un bancale diciamo così per persone che hanno una ridotta mobilità ridotta capacità lavorativa fare quello o fare dei vasi in ceramica anche lì dovremmo analizzare le differenze perché sono entrambe attività occupazionali che forse andrebbero come dire isolate dal resto però poi ho detto una cosa che critico io stesso cioè isolare queste attività dal contesto risulta anche difficile però se vogliamo comparare delle cose fatte in agricoltura sociale delle cose fatte altrove forse dobbiamo avere questo approccio di isolare una parte non lo so diciamo si sono riflessioni che pongo agli altri perché io non ho delle risposte mi sembrano delle vie percorribili ma che hanno sempre dei limiti ma chiaro quando uno i limiti li pone in partenza forse riesce comunque a trarre qualche risultato da questi percorsi solo questo grazie grazie Francesca passiamo la parola a Daniela la mia riflessione è veramente diciamo più ampia nel senso cioè più ampia nel senso che è intesa come agricoltura sociale come oggetto di un'economia sostenibile quindi mi verrebbe in mente come proprio per la sua peculiarità proprio per la sua caratteristica sia per tutte le indagini che sono state realizzate in agricoltura sociale valutare l'impatto sociale dell'agricoltura sociale per diciamo per un'economia generativa di comunità potrebbe dare veramente un nuovo potrebbe consentire una sorta un nuovo impulso quindi un nuovo impulso un nuovo valore veramente sociale di quello che potrebbe essere appunto il ruolo degli enti del terzo settore delle aziende presente di cui sono presenti le esperienze dei beneficiari degli interventi che ne sono appunto la componente essenziale tutto questo secondo me richiede un approccio veramente interdisciplinare dove appunto sono presenti psicologi dove sono previsti economisti dove sono previsti statistici dove sono previsti medici economisti e quant'altro quindi richiede veramente una complessa se vogliamo dare fare una valutazione più complessiva si richiede appunto un'angolatura una visione non un'angolatura una visione molto ampia dove veramente dovremmo attirarsi proprio come gruppo di interesse sull'agricoltura sociale a a prendere sotto osservazione ciascuno di questi elementi considerando appunto la governance il sistema territoriale e il bene e la persona proprio in un'ottica proprio di welfare generativa questo darebbe un nuovo impulso voglio dire anche alla comunità e ai nuovi orientamenti del dell'agenda dell'agenda 20-30 non lo so era una riflessione non so se sono stata chiara ma volevo dare questa dimensione di welfare generativo di comunità che secondo me potrebbe attraverso l'agricoltura sociale si potrebbe esplicitare potrebbe essere diventare esso stesso una sorta di laboratorio da tenere sotto osservazione considerando tutti gli aspetti peculiari che lo caratterizzano grazie spero di essere stata chiara perché ho tentato di mettere insieme più concetti assolutamente grazie Daniela ora rubo 5 minuti 5 semplicemente intanto per condividere quello che in parte dicevi penso se vi ricordate la slide introduttiva di Francesco quando parlava di un processo di valutazione multiattoriale quindi secondo me questa è la vera sfida della valutazione in agricoltura sociale e quindi alla domanda che Francesco poneva alla fine ma valutiamo per chi cioè forse noi dovremmo come dire cercare di capire che la valutazione al di là del singolo progetto quindi di restituzione dei risultati di un progetto che necessariamente è utile fare deve servire proprio come momento di apprendimento per cercare di andare a reindirizzare quelle che sono le politiche e lo dobbiamo fare tutti assieme cioè questo secondo me è l'elemento è la vera sfida nel campo della valutazione e guardate ora visto che ho la parola dico una cosa così poi non intervengo più il fatto comunque oggi di essere qui di essere all'interno come diceva Francesco di un diciamo di un'associazione che tratta del tema della valutazione e che guardate è accettato perché la sfida di mia di Carla è stata no perché non proviamo a parlare di valutazione e a chiedere un panel specifico sulla valutazione in agricoltura sociale quindi questo secondo me è un'opportunità perché fa capire e questo si vede bene nella variabilità degli interventi che ci sono stati il bisogno di confrontarci anche in tema di valutazione perché chiaramente ciascuno di noi parlo per Pisa ma vale anche per altri colleghi e istituzioni che sono qui presenti oggi il tema dell'agricoltura sociale il nostro interesse sul tema dell'agricoltura sociale non nasce adesso quindi abbiamo fatto tutti i vari lavori a diverso titolo abbiamo seguito dei progetti probabilmente quello che è rimasto un pochino indietro e soprattutto lo è rimasto in termini di condivisione di quello che stiamo facendo e trovando come diceva giustamente Daniela anche delle sinergie tra di noi forse proprio il tema della valutazione sul quale ci sarebbe bisogno di confrontarci ancora tanto e mettere a sistema le cose che stiamo facendo proprio per riorientare e lo ridico un'altra volta perché questo mi sembra strettamente necessario le politiche coinvolgendo non solo il mondo così scientifico che è abituato a modelli schemi ma anche direttamente dei territori perché anche a livello territoriale affrontare il tema della valutazione è un progetto che viene fatto sul territorio come dire toscano va sicuro non è la stessa cosa che farlo su di un altro territorio noi ci troviamo sempre tutte le volte no a vi dico ripartire da capo ma quasi perché ci troviamo persone diverse utenti diversi sensibilità diverse al tema della valutazione perché questo è un altro aspetto importante una sensibilità per cui qualcuno è più collaborativo nel condividere quegli strumenti cosiddetti partecipativi qualcun altro come dire lo vede un po' come un obbligo o non diciamo utilità immediata e quindi c'è poca rispondenza nel dare un feedback su quelle che sono poi le schede gli strumenti di monitoraggio quindi ecco io condivido pienamente il tuo intervento Daniela e della necessità su questo tema della valutazione di lavorare insieme grazie grazie a tutti